precedenti, prima dell'estate, sul tema della visione delle politiche per il welfare con Giovanni Fosti e Mauro Magatti, sullo sviluppo del welfare di comunità con Gino Mazzoli e sulla coprogrammazione e la coprogettazione con Luciano Gallo e Riccardo Prandini. Anche queste sessioni sono ovviamente consultabili sul canale YouTube dell'organizzazione del corso. Stasera abbiamo Nicola Dattomo e Paolo Cottino di Key City, che è un'importante agenzia che si occupa di rigenerazione urbana e di supporto agli enti locali per la definizione di politiche abitative, con cui analizzeremo questo importante e per molti versi nuovo tema per quanto riguarda i servizi sociali della programmazione delle politiche abitative. Abbiamo con noi anche il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del distretto Bergamo Ovest, nonché Sindaco di Treviglio, Yuri Meri, a cui passo la parola per un'introduzione a questa serata. Grazie Marcello, buongiorno a tutti. Hai già introdotto bene tu. Abbiamo pensato come consiglio di rappresentanza a questo ciclo di incontri che unisce un po' tutte le anime che sono chiamate poi a decidere e a prendere le decisioni che poi riguardano la vita dei cittadini in un periodo storico particolarmente particolare, scusate gioco di parole, sia perché usciamo, speriamo definitivamente, dalle emergenze, quindi il titolo oltre alle emergenze vuol dire guardare avanti e superare questa fase, sia perché soprattutto per quanto riguarda la Lombardia con più PNRR e i piani di zona, insomma è un anno particolarmente intenso dal punto di vista delle decisioni, decisioni che devono essere i più lungimiranti possibili e quindi questo seminario ci permette, questi incontri ci permettono di incrociare le idee, di avere tutti una formazione, una competenza più ampia, anche prendendo spunto da altri esempi che si sono sviluppati sul territorio e non solo e quindi è sicuramente interessante. Il tema delle politiche abitative riguarda molto da vicino i nostri territori, è interessante ascoltare. La Locandina introduce già tre elementi importanti nella descrizione di questo incontro, nel titolo di questo scenario, poi ci saranno i due approfondimenti successivamente. Visione, innovazione e opportunità. Bisogna trasformare un po' quella che purtroppo a mio avviso per anni è stata un po' un'idea, quella di quasi un obbligo pure di avere ereditato il sviluppo delle politiche abitative sui territori e capire quali possono essere davvero le opportunità da cogliere, sia le opportunità per i cittadini, per i comuni, per gli enti che devono decidere, ma anche le opportunità economiche e devo dire anche per l'esperienza personale di risorse. Su questo tipo di interventi ce ne sono state, ci sono, quindi bisogna saperle cogliere, l'innovazione, quindi non inseguire per forza delle mode a prescindere, ma avere progetti che possano andare davvero nel lungo periodo unito quindi alla visione. E magari, aggiungo io, superando un po' il tema dei campanini o del singolo comune, ragionando un po' più di insieme. A oggi sono solo i bandi a essere fatti di insieme, può darsi che ci sia anche la necessità, ma poi ascolterò con grande curiosità anch'io, come tutti coloro che sono collegati, di sviluppare anche progetti, come già ce ne sono, e quindi andare un po' più forse verso anche un'integrazione tra comuni e territori, anche da questo punto di vista. Quindi sicuramente è un tema molto attuale, è un tema che non deve essere legato solo all'emergenza, è un tema che deve sposarsi anche con le esigenze delle persone, che deve tenere conto di fasce d'età diverse, di bisogni diversi, quindi ogni incontro e ogni esperienza che ci viene raccontata, che va in questa direzione, ci permette tutti insieme di poter fare, credo, sicuramente le scelte migliori per i nostri cittadini. Quindi ascoltiamo volentieri e poi faremo qualche conclusione, qualche riflessione alla fine. Grazie e buon ascolto a tutti. Benissimo, grazie Sindaco Imeri. Niente, io ci tenevo solo a citare e a ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito e che stanno contribuendo alla realizzazione di questo percorso formativo, ovviamente il Consiglio di rappresentanza dei sindaci che l'ha promosso e spinto, tutti i colleghi degli uffici di piano dei 14 ambiti della provincia di Bergamo, l'ufficio sindaci di ATS che ha collaborato, Conf Cooperative e Lega Coop che hanno dato il loro contributo a livello organizzativo, il Centro Servizi per il Volontariato di Bergamo, il Centro Servizi Coesi e la Fondazione della Comunità Bergamasca. darei quindi la parola ai nostri relatori informandovi che, poi lo spiegheranno magari meglio loro, abbiamo pensato di strutturare comunque questa prima serata in due blocchi al termine di ciascuno dei quali ci sarà la possibilità da parte di chi sta assistendo di fare interventi, domande insomma di dare il proprio contributo, quindi c'è anche la chat ovviamente nel nostro canale, però ci sarà poi un momento dedicato proprio anche alle domande e alle interlocuzioni dirette con i relatori. Anche io sono molto curioso di sentire cosa ci racconteranno Paolo Cottino e Nicola Dattomo, per cui a voi la parola. Sì, grazie Marcello Brambilla, siamo onorati evidentemente di questa curiosità e anche molto contenti di presenziare a questo incontro, che come sapete è il primo di un ciclo di tre incontri che abbiamo studiato insieme all'ambito, con l'obiettivo di interessare un pubblico un po' eterogeneo rispetto ai temi di cui andiamo parlando. L'incontro di stasera voleva avere una valenza introduttiva, quindi forse anche era il più complicato da definire in termini di taglio, sappiamo bene che siamo su un territorio dove il tema del housing, il tema delle politiche abitative è particolarmente avanzato, è particolarmente strutturato, riconosco colleghi e amici tra i 57 che stanno seguendo il collegamento, insomma per cui evidentemente non era semplicissimo trovare il taglio giusto con cui entrare dentro questo vostro laboratorio bergamasco, che seguiamo con interesse da anni, abbiamo in parte anche come Capacity concorso a sviluppare alcune esperienze, ma come dire ci siamo premurati, preoccupati da una parte di dare degli elementi, come si diceva in apertura, di conoscenza e di informazione che possano consentire a voi come comunità di lavorare in maniera più coerente, più strutturata, dall'altra parte anche portare degli elementi un po' di stimolo e di critica e di riflessione che vengono dalla nostra di esperienza. Quindi il tentativo non semplice che faremo questa sera è di portare avanti contestualmente un ragionamento di scenario e un ragionamento esemplificativo di opportunità e di temi che possano essere da spunto per un'innovazione anche nei vostri territori. Il primo incontro quindi quello di oggi dedicato proprio a capire come le politiche abitative territoriali si stanno riconfigurando avendo come riferimento sia le innovazioni normative, sapete tutti che evidentemente da circa quasi un decennio siamo dentro un percorso di innovazione a livello regionale della normativa e della disciplina, delle politiche abitative che sta cominciando con una certa lentezza ma con una certa significatività a creare opportunità e dare in definitiva stimoli nuovi, da ultimo questo della programmazione che ispira l'incontro di stasera ma non è l'unico, sapete che, anzi sapete certamente che ci sono stati e ci saranno ulteriori stimoli che vanno dall'accreditamento dei soggetti gestori fino ai bandi e alle iniziative di finanziamento che in parte sono usciti e in parte ci saranno. Quindi diciamo c'è un apparato normativo, giuridico e organizzativo delle politiche che sta dando degli spunti e degli stimoli entro cui proviamo a collocarci. Dall'altra parte ci sono delle opportunità, il già citato PNRR di cui parleremo evidentemente è la più importante e forse dal punto di vista dimensionale significativa opportunità che in questo momento può sostenere innovazioni nel campo delle politiche abitative ma sicuramente non l'unica perché quello che ci interessa evidenziare è che dal meccanismo dei fondi si può e si deve passare a una logica per cui le politiche abitative diventano se non autosostenibili orientate all'autosostenibilità nella ricerca, questo è il nostro approccio, di una sinergia fra aspetti tra politiche pubbliche e mercato, fra soggetti social e soggetti business perché è dentro questa ibridazione che cerchiamo almeno noi di Capacity di costruire l'innovazione in questo settore. I prossimi due incontri saranno più tarati su aspetti tecnici, c'era stato anche paventato che il pubblico di questa sera sarebbe stato più di natura politica mentre il pubblico dei prossimi due incontri più di natura tecnica quindi abbiamo anche volutamente distinto i contenuti delle presentazioni in quest'ottica ma per non rischiare di tenere troppo separate queste due componenti, ci siamo organizzati per procedere in parallelo io e la collega da Tomo, io farò per entrambe le sezioni in cui abbiamo organizzato questo incontro una breve introduzione con l'obiettivo proprio di dare degli elementi di sfondo, delle contestualizzazioni che servano anche a costruire la riflessione comune mentre lascerò a Nicola da Tomo un maggior spazio proprio per entrare nel merito delle esperienze e degli aspetti più di natura tecnica che servano a supporto del confronto che vorremmo con voi a conclusione di ciascuna delle due sezioni. Ci piacerebbe cioè che per quanto possibile a seguito dei nostri spunti ci sia una reazione vostra che ci dia anche la tara di quanto questo tipo di stimoli colgono effettivamente nel segno o diversamente risultano come dire terreni già percorsi e temi già discursi. Prima di iniziare io vorrei anticipare quella che è un po' la, da una parte il punto di vista che ci guida, che ci porta qui a raccontarvi queste cose, quindi qualche nota biografica non per fini autocelebrativi ma semplicemente per chiarire a chi non ci conosce qual è il punto di vista che ci porta ad essere qui stasera con questa posizione, in questo ruolo e a raccontarvi delle esperienze che svolgiamo. Capacity è una società che ormai da più di undici anni si muove nel campo della rigenerazione urbana e ha mosso i suoi primi passi proprio nel campo dell'ausi sociale, costruendosi anche una reputazione che l'ha portata poi a diventare consulente di Regione Lombardia proprio nella fase di avvio della legge 16. Abbiamo attraverso delle ricerche condotte per conto di Polis Lombardia affiancato la direzione casa di Regione Lombardia a più riprese, prima per impostare un ragionamento e un discorso sull'innovazione delle politiche abitative, poi successivamente per costruire modelli operativi e soluzioni gestionali che potessero in qualche modo implementarle. Capacity lavora tanto alla scala nazionale quanto a quella regionale fino a quella di ambito e quando non comunale, cioè ci muoviamo a diverse scale con un obiettivo che è quello di affiancare e supportare gli attori, in questo caso delle politiche abitative nel montare e nell'impostare dal punto di vista prima strategico e poi organizzativo quelli che sono e che saranno sempre di più i servizi abitativi sociali intesi in un'accezione nuova che è quella stimolata dalla legge 16 ma che ben conoscete oggi supera anche il campo definito della normativa. Capacity lavora quindi a fornire stimoli e supporti nella fase di montaggio delle politiche e poi si occupa di accompagnare e di organizzare la gestione di queste politiche nella loro fase operativa. Allora sulla scorta di questa esperienza che vi ho sommariamente riassunto oggi vogliamo in qualche misura provare a proporvi una tesi che vi anticipo in apertura ma che poi sarà più chiara soltanto a valle della presentazione che andiamo per fare ma vogliamo anticiparla perché sia chiaro a tutti qual è dal nostro punto di vista l'elemento nodo su cui ci sembra importante prendere a lavorare anche in occasione di questa nuova programmazione che la legge 16 chiede agli ambiti di sviluppare. Allora se da una parte, la tesi è molto semplice, se da una parte il fatto che l'housing sociale e la regenerazione urbana abbiano acquisito un peso così rilevante all'interno del PNRR dimostra la validità delle tesi che abbiamo sostenuto in questi anni e cioè che le politiche abitative e sociali non possono e non devono essere considerate un'iniziativa volta semplicemente a colmare dei defici dei territori, delle iniziative che li appesantiscono e che quindi vedono in molti casi uniresti ad accoglierle al proprio interno, così come facevano quando venivano scelte le localizzazioni dell'edilizia residenziale pubblica e invece l'abitare sociale acquisisce questo ruolo importante e decisivo dentro una strategia di ripresa del paese vuol dire che c'è la possibilità a tutti gli effetti di considerare l'abitare sociale una leva di sviluppo, quindi un qualcosa che i comuni e le amministrazioni sui propri territori possono pensare di attivare nella prospettiva non soltanto di rispondere a dei bisogni o a delle emergenze per stare al titolo del vostro incontro, ma con l'obiettivo di innescare dei processi di sviluppo innovativi. L'abitare sociale cioè come linea di sviluppo può rappresentare una dimensione di attrattività, di nuova attrattività per i territori. Allora se questo è vero e noi siamo convinti che sia vero c'è un ma e il ma è il seguente, cioè finora l'abitare sociale è stato coltivato, sviluppato e promosso in contesti che sono già attrattivi. Le grandi città, in un a caso i programmi innovativi qualità dell'abitare di cui parleremo oggi sono stati promossi all'interno di grandi città, città con più di 50.000 abitanti e soprattutto i fondi immobiliari, l'esperienza di cui vi parlerà Nicola D'Atomo sono state tutte collocate dentro contesti dimensionalmente significativi. Allora è evidente che se vogliamo sostenere che l'ausilio sociale è una leva per nuovo sviluppo territoriale dobbiamo interrogarci su quale sia il modello a cui far riferimento, non per implementare l'ausilio sociale in contesti già attrattivi, ma per fare in modo che l'ausilio sociale sia la leva per una nuova attrattività dei territori. Capite il passaggio? Il passaggio è dal considerare, dal selezionare i territori in cui si può fare l'ausilio sociale perché ci sono le condizioni e poi anche qui Nicola vi dirà quali sono oggi a tutti gli effetti le condizioni che rendono possibile e fattibile l'ausilio sociale. Dall'altra parte si passa invece a una condizione in cui anche piccoli progetti e iniziative di ausilio sociale servono ad innescare dei processi di sviluppo e delle iniziative che costruiscono una nuova attrattività per territori che si stanno spopolando, per territori che sono marginali, per territori che hanno una dimensione di attrattività persa e da riconquistare. Allora questa è un po' come dire la tesi alla quale evidentemente non pretendiamo di dare già una risposta, ma dare come dire degli spunti, delle sollecitazioni anche a partire dai progetti che abbiamo seguito e stiamo seguendo. È evidentemente diverso coltivare le nuove politiche abitative in territori che sono attrezzati per recepire i grandi fondi e per attrarre i grandi operatori dall'attivare politiche abitative e sociali dentro territori che hanno sia per dimensione che per localizzazione una marginalità che va contrastata. Noi siamo convinti che l'ausilio sociale, le politiche abitative, i servizi abitativi sociali interpretati in un certo modo possano essere una chiave di sviluppo, possano essere l'occasione per rilanciare dei territori facendone vedere, evidenziandone delle potenzialità e delle risorse che attualmente sono dormienti e sottoutilizzate. Allora è un po' su questo, è questa la falsariga su cui vi proporremmo di ragionare e lo facciamo dandovi alcuni elementi proprio di riferimento. Mi scuso, ti da subito, perché alcune delle cose che andrò dicendo sta già benissimo, però capite anche noi che trovandoci di fronte a un pubblico così eterogeneo non potevamo evidentemente immaginare una presentazione tarata in maniera univoca su un livello di interlocuzione. Nel chiedere a Nicola quindi di proiettare le slide chiedo anche a qualcuno che ha il microfono acceso di spegnerlo perché ho un ritorno un po' fastidioso di ringrazio in cuffia. Allora, pochissime indicazioni per poi lasciare a Nicola il dettaglio di questa prima sezione dedicata al rapporto che c'è, ci può e ci deve essere fra le politiche abitative e la rigenerazione urbana. Questa è la copertina del volume che abbiamo curato per Regione Lombardia nel 2016, è un volume che peraltro potete trovare scaricabile liberamente sulla rete, è stato pubblicato da Inu Edizioni ed è un volume con cui abbiamo provato a dare prima nella ricerca a Regione Lombardia e poi al pubblico a cui questo volume è stato diffuso alcuni spunti anche a partire dall'esperienza francese. Cosa ci è sembrato interessante dell'esperienza francese legata al programma Reinventare Parigi che evidentemente risuona nel titolo che abbiamo dato a questo volume? L'idea che la fattibilità delle politiche abitative passi attraverso un modo nuovo di interpretare il concetto di casa ed è quello stesso modo nuovo che tra le righe della legge 16 si può leggere con chiarezza. La legge 16 non è una novità che ha introdotto alcune piccole rivoluzioni nel modo di interpretare le politiche abitative, potremmo dire che in prima battuta si è passati da un'idea della politica abitativa come politica volta alla creazione del bene immobiliare, l'edilizia residenziale pubblica come bene immobiliare attraverso cui le politiche pubbliche affrontano il nodo abitativo, ha una visione delle politiche abitative come creazione delle condizioni utili a soddisfare un bisogno, muovendo tutti gli strumenti possibili e immaginabili di cui la gestione del patrimonio è una. La gestione intelligente delle risorse è la nuova frontiera a questo punto mi verrebbe da dire non soltanto in regione Lombardia ma se prendete i documenti dell'Unione Europea che orientano le politiche di sviluppo sociale del territorio da diversi anni è proprio questa la frontiera di innovazione, cioè da una logica settoriale che individua o spingeva le amministrazioni a trattare settorialmente i bisogni a un'azione integrata che è finalizzata a gestire in maniera intelligente le risorse di cui si dispone e badate bene che la stessa legge 16 chiarisce fin da subito che il patrimonio immobiliare è una risorsa importante ma non sufficiente per la soddisfazione dei bisogni abitative che viene non a caso inscritto a partire dal 2016 dentro le iniziative di welfare. Si viene cognata addirittura l'idea del welfare abitativo inteso proprio come il nuovo campo di intervento delle politiche di welfare ma stiamo parlando dell'ambito dei servizi alla persona dentro cui l'utilizzo il ricorso al bene immobiliare che sia già esistente da riutilizzare o che sia di nuova costruzione è uno degli ingredienti e uno delle risorse necessarie a costruire l'azione abitativa integrata. In questo senso quindi con la legge 16 si è dato per certi versi consolidamento all'idea che in forma di slogan è circolata ampiamente negli anni precedenti della casa come servizio. Noi come capaciti dai nostri primi anni di attività abbiamo lavorato attorno alla promozione operativa di questa idea della casa come servizio cioè la casa non più come un bene che viene affidato per soddisfare il diritto della singola persona per la vita ma come strumento volto a trattare delle condizioni di difficoltà transitoria temporanea e che va coordinato e sincronizzato con tutti quegli altri strumenti delle politiche di welfare e con cui le politiche di welfare affrontano le condizioni di difficoltà delle persone. In questo senso quindi il servizio abitativo è un insieme di azioni materiali immateriali multidimensionali da cui può scaturire il beneficio abitativo. Non è detto che la realizzazione di un nuovo bene immobiliare sia la soluzione giusta per soddisfare il bisogno abitativo. Anzi in molti casi il bene immobiliare è la risorsa che più di altre esiste già che va però attivata e questo evidentemente è l'elemento critico cioè avevamo nella prima ricerca fatta per regione Lombardia censito anche dal punto di vista quantitativo l'esistenza sul territorio regionale di un patrimonio immobiliare potenzialmente già utile a soddisfare l'intero fabbisogno abitativo censito mappato dalla regione. Evidentemente questo patrimonio o è indisponibile o è disponibile ma non attivo insomma il vero tema era in che modo arrivare a riattivare questo patrimonio in maniera coordinata con tutte le altre azioni delle politiche di welfare che consentano di interpretare quindi il welfare abitativo nel senso più compiuto e più strategico. Allora dentro questo volume abbiamo preso spunto dalla Francia individuando nei progetti di Reinventer Paris tutta una serie di esempi interessanti del modo in cui il patrimonio esistente è stato valorizzato in chiave di politica abitativa sociale senza l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive a parte evidentemente quelle patrimoniali immobiliari e attraverso una virtuosa sinergia fra la componente privata e la componente pubblica. Abbiamo poi in occasione di quella ricerca costruito e sondato le condizioni di replicabilità di quell'approccio nel territorio regionale scoprendo che le risorse sia materiali che immateriali utili a coltivare quel modello erano presenti non soltanto nei grandi centri Milano, Bergamo, Brescia, nei grandi centri del territorio regionale ma in molti casi anche in centri minori ad esempio quelli collocati lungo l'asse ferroviario perché l'accessibilità è una condizione fondamentale anche nel caso parigino per far sì che questo meccanismo funzioni, un meccanismo che costruisce l'attrattività dei territori mescolando offerta abitativa sociale, offerta di nuovi servizi, nuovi modelli di vita, nuovi modelli di abitare che incuriosiscano e sostengono quindi una domanda che attualmente non trova risposta all'interno della città. E quindi Reinventare Parigi ha dato spunti e significative sollecitazioni rispetto al modo in cui si costruisce un intervento di social housing inteso come leva, come strategia di attivazione di un territorio e di costruzione di una nuova attrattività dello stesso. Su questo volume non spendo ulteriori parole perché ripeto è disponibile e tutto sommato ci porterebbe fuori strada rispetto al ragionamento che vi ho anticipato e vorremmo sviluppare oggi e invece passo al secondo punto che è il PNRR che oggi come tutti avrete visto ritrova all'interno della missione 5 un fortissimo impegno di risorse dedicato proprio ai temi di cui andiamo parlando stasera. Alla missione 5 dedicata alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore vengono complessivamente imputati 11 miliardi di cui una significativa parte, oserei dire più dell'80% è dedicato proprio a un capitolo di spesa intitolato Rigenerazione urbana e housing sociale. È un capitolo di spesa tutt'altro che oscuro perché avrete sicuramente visto che alcuni dei capitoli di spesa che riguardano in particolar modo le politiche abitative e sociali sono stati già attivati nei mesi scorsi. Alludo tanto al programma innovativo qualità dell'abitare che appunto già citato riguardava le grandi città ma in qualche misura e poi ci tornerò, ha evidenziato, ha dato nome e cognome a un modello di intervento molto simile a quello che con la legge 16 credo si voleva sostenere, ma vedete anche l'investimento numero 1 all'interno della linea d'azione 2, spero che le slide siano visibili, è dedicato proprio a delle iniziative, ai progetti di rigenerazione urbana all'interno dei comuni con più di 15 mila abitanti. Quindi cominciamo a posizionarci al di fuori del contesto dei grandi centri metropolitani e questa è l'iniziativa che fa riferimento al DPCM dello scorso marzo. Molti dei vostri comuni lo sapranno perché probabilmente hanno anche partecipato, il governo ha messo a disposizione delle risorse in una forma però a cui anticipo una posizione critica assolutamente divergente da quello che è il ragionamento che ci ha guidato nell'accompagnamento della riflessione di Regione Lombardia sul rapporto fra rigenerazione urbana e aglio sociale e fin anche nella gestione dei programmi di INQUA. Perché in quel caso si è trattato di mere opere pubbliche che dovevano essere finanziate e selezionate con criteri totalmente differenti da quelli che siamo abituati a utilizzare per selezionare il bisogno sociale e l'opportunità di sviluppo territoriale e la dimensione diciamo di azione sociale e di azione software integrativa è stata completamente assente in questa iniziativa. Cosa che invece nel modello di intervento del PINQUA che abbiamo riassunto in questa slide invece era più presente seppur e sebbene non finanziato perché tanto nel PINQUA quanto nel bando del DPCM di marzo sapete bene che erano finanziati esclusivamente gli interventi materiali, le opere, ma nell'ambito della strategia che era richiesta per partecipare al PINQUA invece il coordinamento con le politiche sociali, con le azioni immateriali era non solo raccomandato ma proprio richiesto per ottenere il punteggio necessario a posizionarsi in graduatoria. Questo schema che abbiamo utilizzato nell'ambito delle nove candidature ai bando PINQUA che abbiamo seguito come K-City in diverse regioni del paese riassumeva i temi, la molteplicità dei temi che erano sollevati da dei progetti che dovevano avere comunque l'abitare sociale al centro del ragionamento. Voi sapete che era scritto ed era ribadito in tutti i documenti ufficiali, il programma innovativo Qualità dell'abitare era un programma di rigenerazione urbana che trovava il suo focus, il suo baricentro nelle iniziative di housing sociale. Quindi l'abitare sociale e l'abitare pubblico, i servizi abitativi sociali e i servizi abitativi pubblici come baricentro, come motore di un'iniziativa che doveva avere una valenza e una portata di scala territoriale. Quindi trovate gli ingredienti sulla sinistra della slide, gli ingredienti legati alla casa come ingredienti primi e principali, che però dovevano coordinarsi e combinarsi con delle iniziative importanti di riuso di contenitori privati e pubblici, di attivazione o riattivazione di beni culturali, in alcuni casi vincolati. Dovevano essere iniziative coordinate con la valorizzazione degli spazi pubblici, proprio perché l'abitare sociale non è la casa, l'abitare è qualcosa di più ampio che a partire dalla casa riguarda la vita della comunità su un territorio. Doveva essere coordinato con l'attivazione di servizi e infrastrutture di scala territoriale che servissero a rendere l'intervento, come dire, fruibile e attrattivo nei confronti del territorio più ampio, con iniziative di valorizzazione ambientale e soprattutto con un modello di gestione e di partecipazione fortemente incentrato sul coinvolgimento della comunità. Allora queste erano le cinque linee d'azione attorno a cui era richiesto di costruire il progetto. Sulla destra trovate gli impatti che andavano perseguiti. Trovate impatti di natura ambientale, impatti di natura sociale, impatti di natura culturale, urbano-territoriale, economico-finanziario e addirittura tecnologico-processuale. Cioè una varietà enorme di impatti, in questo senso era un progetto che aveva delle ambizioni multidimensionali, sebbene questi impatti venissero valutati con parametri molto stringenti, oserei dire esclusivamente quantitativi e quindi da questo punto di vista una riflessione come quella che abitualmente viene svolta all'interno degli ambiti e nei vostri territori quando ci si occupa di avere interesse sociale è molto diversa. La componente qualitativa, la componente diciamo sociale ha un taglio del tutto diverso che quindi andrebbe soltanto ad arricchire uno schema di intervento che in questo momento io richiamo non perché sia il più da emulare in tutto e per tutto, ma perché mi viene da dire l'elemento di innovazione principale che abbiamo trovato dentro questa iniziativa. Ripeto, il PINQ ha costruito un modello di azione, di progettazione integrata delle iniziative di abitare sociale che ambiscono a rappresentare un po' il riferimento e dovranno esserlo, io credo, anche per gli interventi più legati ai contesti minori, quindi in quei contesti con comuni da più di 15.000 abitanti che finora hanno ospitato semplicemente opere pubbliche interpretate secondo regole molto più leggere e poco sofisticate. Allora, io chiuderei ribadendo e passando la parola a Nicla, che se questo è il quadro entro cui collochiamo la nostra riflessione, questo è anche il quadro entro cui va costruito, va indagato insieme la condizione di fattibilità e l'utilità di una programmazione integrata alla scala di ambito, che ci consenta di evidenziare se ci sono, quali sono le risorse per valorizzare, per andare nella direzione che abbiamo sinora descritto. Il termine infrastrutture sociali, che richiamiamo in questo articolo che abbiamo concorso a promuovere per conto di PIPAN, che è un'importante rivista che si occupa dei temi legati alla rigenerazione urbana e alle politiche abitative e all'interventi fisico-architettonici sui territori, l'idea, il tema dell'infrastruttura sociale è un tema molto interessante e rilevante per inquadrare tutto quello di cui abbiamo parlato. Noi siamo contenti che il tema della rigenerazione urbana e dell'ausilità sociale ricada nel PNRR all'interno di un capitolo così intitolato, perché nel concetto di infrastruttura sociale c'è quella sinergia fra hardware e software che riteniamo decisiva per qualsiasi attività di programmazione delle iniziative di rigenerazione urbana e di abitare sociale. Cioè l'idea è che il nuovo corso di queste iniziative proprio debba provare a coniugare politiche per il patrimonio e politiche per i servizi alla persona. Non possono e non devono essere trattate in maniera separata, anche perché in molti casi trattate in maniera separata faticano poi a convergere in un secondo momento. Quindi l'idea di attivare per le iniziative di rigenerazione in maniera contestuale un cantiere fisico o un cantiere sociale è la linea d'azione che proponiamo insieme a una serie di soggetti che sicuramente conoscete, perché insieme a IFEL, la fondazione di ANCI per la finanza degli enti locali, insieme al forum del terzo settore a livello nazionale e insieme all'ASSIFERO che è l'associazione delle fondazioni italiane, stiamo promuovendo un manifesto per le infrastrutture sociali che nei prossimi mesi raccolga energie, attori e soggetti interessati a concorrere a definire un modello di realizzazione delle infrastrutture sociali che sia, come dire, nel solco di tutto quello che vi ho detto fino adesso, capace di tenere assieme iniziative software, iniziative hardware e in qualche misura di creare laddove per diversi motivi i finanziamenti nazionali non lo fanno, creare le condizioni affinché siano disponibili risorse economiche anche per le iniziative immateriali, perché questo sappiamo benissimo essere il problema che i comuni oggi vedono, cioè sono chiamati a programmare in maniera integrata hardware e software, ma poi si trovano finanziate esclusivamente la parte hardware. Le ragioni per cui questo accade le conosciamo, è anche vero che potrebbero essere affronteggiate in attesa che vengano affronteggiate a livello nazionale, esistono e sono forse da attivare soluzioni alla scala locale che con il concorso di questi attori che vi ho detto vorremmo provare a farci carico di stimolare. Però su questo direi che ripartire dall'esperienza del FIA e poi farvi vedere in che modo abbiamo lavorato all'interno di un contesto marginale, certamente non già attrattivo, con l'obiettivo di far sì che l'housing sociale fosse la leva per una nuova attività del territorio, è il baricentro della riflessione che la collega Nicola Dattomo vi proporrà e per questo le passo la parola. Grazie Paolo, io saluto tutti, continuerò a condividere lo schermo e avrò qualche difficoltà a passare dalla modalità in video alla condivisione del mio schermo per cui non vi guarderò mentre parlerò. Faccio una breve introduzione soltanto per dirvi che abbiamo pensato di provare ad articolare la riflessione di questo pomeriggio riesaminando assieme a voi una serie di progetti ai quali abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare negli ultimi due anni, soprattutto diciamo provando ad esporre questi casi con riferimento a due principali riflessioni. Il primo caso di cui parleremo, prima di interromperci per lasciarvi la parola nel caso che ci siano considerazioni o domande che vorrete condividere, il primo caso che esporremo è quello che ci ha visto insieme ad un'equipe più composita di professionisti elaborare uno studio di fattibilità per un intervento di housing sociale a Taranto, nella città vecchia di Taranto e più tardi invece nella serata esporremo una serie di casi che invece abbiamo studiato e ai quali stiamo lavorando nel territorio lombardo. Il caso di Taranto ci serve come elemento l'indagine nel tentativo di strutturare una riflessione su quali sono le condizioni allo sviluppo dei progetti di housing sociale quando le condizioni sono differenti da quelle con le quali si è consolidato e si è prodotto un modello negli ultimi dieci anni a partire dal piano casa del 2009. Che cosa succede quando non è possibile applicare le stesse condizioni nelle quali i casi più noti di sviluppo di housing sociale in Italia si sono realizzati, quali sono le sfide che connaturano i contesti e le condizioni differenti che esulano da questo paradigma e da questo modello per come si è consolidato. Nella seconda parte invece di questa comunicazione i casi che esporremo ci serviranno a provare a capire come in alcuni territori anche di comuni più piccoli e confrontandosi con nicchie di domanda più specifiche si sta tentando un lavoro sul campo che vede le pubbliche amministrazioni soprattutto attive in tutta una serie di processi di innovazione che le riguardano direttamente dal punto di vista della loro capacità di attivare le risorse in senso patrimoniale ma anche di attivare le competenze nel mettere assieme soggetti territoriali e nello strutturare servizi nuovi. Ho ritenuto importante fare questa introduzione in modo tale che condividiamo prima quali saranno gli argomenti sul tavolo e io mi eclisserò dietro la condivisione dello schermo cercando di essere rapida e ordinata. In qualunque momento abbiate però domande o ci siano delle cose che non sono chiare o su cui necessitate di approfondimenti vi prego di interrompermi intervenendo in viva voce. Vi chiedo forse di confermarmi che si visualizzi lo schermo. In questa prima parte quindi proviamo ad approfondire attraverso il caso come vi ho anticipato di Taranto le condizioni di fattibilità e le nuove sfide per lo sviluppo di progetti di housing sociale partendo un po' dalle premesse delle premesse che ormai appunto dal 2016 in Lombardia ci vedono prendere dimestichezza con un'idea di servizi abitativi come servizi compositi, come servizi articolati. La legge Lombarda introduce le definizioni dei servizi abitativi pubblici, sociali e transitori in qualche modo mettendo a sistema degli strumenti e dei modelli che in realtà sono preesistenti evidentemente alla legge regionale stessa ma con l'idea di affermare con decisione come una disponibilità preordinata di strumenti e di modelli per l'edilizia residenziale pubblica in particolare la sovvenzionata o per l'edilizia residenziale agevolata e convenzionata che è quella con cui più tipicamente si è prodotta offerta di abitare per ceti a reddito intermedio attivando attori e capitali privati, la legge regionale 16 riafferma che questi tre strumenti e queste tre modalità stanno sotto un unico cappello e compongono un'unica politica. Un'unica politica che come afferma la legge regionale 16 ha il compito di occuparsi non soltanto delle categorie protette, cioè quelle che in Lombardia ricordiamo hanno redditi ISERP che non superano la soglia dei 16 mila euro. È una politica che deve occuparsi con crescente attenzione e con strumenti nuovi anche di quella che ci siamo abituati a chiamare come la fascia grigia. Categorie sociali cioè che non esprimono un disagio grave ma che comunque esprimono una incapacità di soddisfare sul mercato la propria domanda di casa. Abbiamo cerchiato in questa slide i due box dell'edilizia agevolata e dell'edilizia convenzionata ricordando appunto come sono strumenti preordinati che le leggi nazionali descrivono e articolano nelle loro forme e negli strumenti attraverso cui si possono produrre e gestire. È importante ricordare che gli attori che sono più comunemente preposti alla realizzazione di servizi abituativi nelle forme dell'edilizia agevolata e convenzionata sono principalmente attori del privato, del mercato ma non necessariamente. L'edilizia convenzionata ad esempio, l'edilizia agevolata può essere prodotta anche da attori diversi da quelli consolidati. Sul tema degli attori nella costruzione di una nuova offerta per le nuove platee cioè per la fascia grigia abbiamo pensato di riservare un'attenzione specifica all'attore che più di tutto diciamo più di tutti si è in questi hanno imposto come produttore di innovazione. Parliamo soprattutto del fondo di investimenti per l'abitare, del FIA, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, SGR e istituito dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa del 2009. Il piano casa che ricorderete si articolava in sei linee di intervento e con esclusione delle linee di intervento che più specificatamente si occupavano dell'edilizia residenziale pubblica si riassumevano essenzialmente in tre innovazioni. L'introduzione di un sistema integrato di fondi, l'accento fortissimo sulla necessità di costruire forme di parternariato pubblico privato e quindi di definire strumenti nuovi per agevolare queste nuove forme, di attivazione del privato ai fini della costruzione di nuova offerta e infine l'accento altrettanto posto sui programmi integrati di promozione di edilizia residenziale che costituivano la premessa al discorso che Paolo ha esposto e cioè alla possibilità di ripensare le politiche abitative dentro un quadro di politiche del territorio e delle città. Nella autodescrizione che il fondo fa di sé, il fondo di investimenti per l'abitare è considerato nella letteratura come l'origine di una tradizione italiana di edilizia privata sociale, un'edilizia privata sociale che ha l'intento di promuovere e sviluppare progetti e iniziativi per incrementare l'offerta di alloggi sociali attraverso risorse e con modalità di attuazione che sono proprie del mercato immobiliare privato, cioè attraverso strumenti di investimento e non attraverso le tradizionali forme della spesa pubblica. Il fondo di investimento per l'abitare investe, adesso lo vediamo nello specifico, in fondi locali. Ricordiamo anche brevemente quando si è istituito e con quali risorse. Si è istituito nel 2009 con un equity, con un ammontare complessivo di capacità di spesa iniziale che ammontava poco più di 2 miliardi. Questi 2 miliardi erano stati composti dall'apporto di risorse di tre principali soggetti, Cassa Depositi e Prestiti che era il principale finanziatore del fondo con un miliardo di euro, alcuni investitori pubblici e altri investitori privati. Il fondo di investimento per l'abitare finanziava, aveva la finalità di finanziare poi una serie di fondi locali, i quali per statuto dovevano costituirsi avendo una composizione nelle dotazioni che poteva vedere la partecipazione del FIA, del fondo di investimento per l'abitare, fino a un massimo dell'80% dell'equity e che chiedeva invece il reperimento localmente di almeno il 20% di equity, cioè di risorse, che venissero da investitori locali. Investitori locali che tipicamente sono le amministrazioni locali, fondazioni di origine bancaria, agenzie per la casa o operatori del privato e del privato sociale. Dentro la compagine dei fondi locali partecipati dal FIA si è ricollocato anche il fondo immobiliare di Lombardia, il fil 1, che in realtà era preesistente alla costituzione del FIA, ma che appunto ha visto l'ingresso di cassa depositi e prestiti e che è il fondo partecipato da Regione Lombardia, Fondazione Carico, alcuni altri gruppi bancari, assicurativi e immobiliari e dalla stessa cassa depositi e prestiti, che ha sviluppato e sta sviluppando in Regione Lombardia una serie di iniziative soprattutto per la realizzazione di nuovi interventi e per la costruzione di nuovo stock edilizio da destinarsi all'abitare sociale. Le iniziative attivate dal Fondo Immobiliare di Lombardia allo stato attuale sono 23, in questo momento il fondo è gestito da una società di gestione del risparmio che è Redo, SGR, forse dico cose che molti di voi sanno già. Gli aspetti che ci sembrano però interessanti e per cui abbiamo velocemente richiamata questa premessa è che il Fondo di Investimento per l'abitare ha ormai 10 anni dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, ha all'attivo circa un po' meno di 20.000 alloggi realizzati più quasi 7.000 posti letto in residenze temporanee o residenze per studenti, su un totale di 260 interventi che si spalmano su tutto il territorio nazionale ma che investono questo territorio in realtà in modi diversi e soprattutto si sono sviluppati sul territorio nazionale con tempi diversi. Una nota importante, la gran parte di queste realizzazioni sono destinate alla locazione, una locazione che fa ricorso al canone concordato. Soltanto una piccola parte degli alloggi in locazione viene destinata ai canoni moderati e sociali, quindi alle fasce di reddito più basse. Perché il ricorso al canone concordato? Perché il presupposto nello sviluppo di questo tipo di modello è che attraverso i canoni gli investimenti possano essere ripagati su un tempo che è calcolato in prima approssimazione in un arco temporale di 25 anni. Questa offerta di alloggi soprattutto in locazione e a canone concordato serve appunto a soddisfare la domanda di quella che abbiamo chiamato fascia grigia, una fascia cioè di utenti che è incapace di soddisfare la propria domanda abitativa ricorrendo al mercato e quindi domanda la disponibilità di alloggi a canoni inferiori a quelli di mercato ma comunque diversi dai canoni moderati e dai canoni sociali che sono quelli invece riservati alle fasce a maggiore fragilità. Il fondo di investimento per l'abitare che si struttura su queste premesse diciamo di natura finanziaria ha contribuito in questi anni a consolidare un modello sul quale torneremo soprattutto cercando di capire insieme come questo modello si adatta sta provando ad adattarsi a contesti e a condizioni differenti. Il modello che il fondo di investimento per l'abitare attraverso l'azione poi dei fondi locali e delle SGR che li gestiscono ha consolidato, ha costruito e consolidato si fonda nelle parole del Presidente di Cassa Depositi e Prestiti su cinque punti. Può essere descritto attraverso cinque elementi salienti. Uno prevede interventi che si attivano e si realizzano e si gestiscono nel tempo attraverso forme di partenariato tra il pubblico e il privato. Prevedono delle modalità ed un approccio finanziario che è quello che fa riferimento alle formule dell'investimento e non della spesa pubblica. Sono investimenti e non spese e di conseguenza devono generare redditività per quanto contenuta e per quanto lenta, paziente. Hanno soprattutto la finalità di sviluppare un mercato dell'affitto che nel contesto nazionale è minoritario e insufficiente nella sua capacità di offerta, ha l'obiettivo di generare impatto sociale in termini di costruzione, di coesione e di offerta di nuovi servizi. Ha inoltre un obiettivo di innovazione e di qualità edilizia. Questi cinque punti di fatto costruiscono un modello che può essere riassunto nei tre temi delle forme dell'abitare condiviso e collaborativo, insistendo sulla componente della comunità degli abitanti. È un modello che punta all'integrazione tra il servizio abitativo, cioè l'alloggio, è una serie di servizi integrativi a quello dell'abitare e di servizi locali e urbani, quindi riserva un'attenzione specifica al tema dei contesti, dei contesti nei quali gli interventi si sviluppano e della capacità che gli interventi hanno di modificare questi contesti e di attivarli attraverso la dimensione del servizio e si fondano soprattutto sul ruolo del gestore immobiliare e sociale come garante dell'attivazione di queste condizioni, dove questo modello si è soprattutto sviluppato. Questa mappa che è contenuta in una presentazione del precedente gestore del fondo Lombardo, illustra la diffusione degli esempi e dei processi nell'area milanese, cioè nell'area del capoluogo. Abbiamo introdotto questa mappa per ricordare come le nuove realizzazioni di edilizia residenziale e sociale si sono spesso accompagnate a processi che hanno avuto a che fare soprattutto con una nuova attenzione al tema delle periferie urbane. A livello nazionale questa cronologia, questa mappa costruita su cronologie mostra come gli interventi del fondo di investimento per l'abitare si siano lentamente estesi al territorio nazionale, essendo per primi partiti nelle regioni del centro nord e soprattutto nei capoluoghi Milano, Torino e Bologna, essendosi diffuse nelle regioni settentrionali e del centro nord su alcuni assi strategici, l'asse dell'Emilia, l'asse della Milano-Venezia, quindi anche nelle città venete, soprattutto per esempio nei capoluoghi del Veneto, penso a Verona, a Padova principalmente e a Venezia e soltanto negli ultimi anni a partire dagli anni a cavallo del 2015 hanno cominciato a vedere iniziative di sviluppo anche nel centro sud e a Roma. L'ultima mappa purtroppo non ne abbiamo reperita perché pare non ne abbiano più costruite, l'ultima mappa è datata al 2017 ma mostra, lo vedete, un modello che nel nord si diffonde e si consolida e che continua a vedere produrre nuovi interventi nelle città in cui il processo è cominciato, cioè a Torino, a Milano e a Bologna e che ancora invece mostra una fortissima sperequazione tra la quantità di interventi realizzati nel centro nord e la quantità di interventi invece al vaglio nelle regioni meridionali. Questa slide ci serve a introdurre il caso di Taranto per l'appunto che abbiamo descritto come una sfida. Nel caso della città di Taranto l'intervento di housing sociale nella città vecchia è stato pensato sin dalla sua concezione appunto nella prospettiva della leva alla rigenerazione urbana. Tornare ad abitare la città vecchia di Taranto è una condizione per attivare un processo di rigenerazione e di conseguenza l'offerta di una nuova forma di abitare nella specifica declinazione del housing sociale costituisce la condizione per cui si innesti una nuova comunità di abitanti che diventi protagonista del processo di rigenerazione che si vuole intentare. Perché Taranto rappresenta una sfida e quali sono i punti di discostamento che la città di Taranto e il caso di Taranto mostra rispetto al modello per come si è consolidato e diffuso. Intanto un rapido excursus per capire dove si colloca questo intervento. La città vecchia di Taranto, l'isola madre, è letteralmente l'isola posta fra il mar grande e il mar piccolo, cioè fra il golfo di Taranto e i seni di questo mare interno che è il mar piccolo, è divisa dalla città a nord che è la città industriale, la città della ben nota Ilva, ma è anche la città del porto e la città del petrolchimico e invece la città a sud che è la città che si è sviluppata soprattutto nel primo e nel secondo novecento, grazie anche al grande impulso che le industrie hanno rappresentato per la città di Taranto. L'isola è una sorta di periferia del centro perché ha conosciuto un lungo processo di abbandono e oggi ampiamente spopolata e nel 2019, a seguito di un incarico in realtà di una gara, perdonate, già aggiudicata nel 2015, K-City insieme ad alcuni altri professionisti pugliesi viene attivata nel provare a elaborare uno studio di fattibilità per un progetto di housing sociale che riguarda un comparto dell'isola madre di Taranto, della città vecchia di Taranto, che si colloca proprio al centro dell'isola, lungo uno dei percorsi principali e a ridosso di un po' di due mondi, la spina centrale che è la via Duomo e invece il waterfront che affaccia sul mare interno, è un'area che è fortemente rappresentativa della condizione di degrado e di abbandono dell'intero centro storico. In questa carta i bianchi indicano gli isolati che sono o completamente crollati o comunque inagibili. Una condizione questa della città vecchia di Taranto da vera e propria ricostruzione, una condizione nella quale il ruolo della pubblica amministrazione va ridefinito a partire dalla sua capacità di agire in quanto proprietaria la pubblica amministrazione di una parte consistente di questi immobili, soprattutto degli immobili più ammalurati. in questa carta la proprietà pubblica, la proprietà del comune di Taranto è quella segnata con il blu più scuro, in azzurro sono segnate le proprietà parzialmente pubbliche mentre quelle gialle sono private, se la si confronta con l'immagine precedente si capisce subito come il patrimonio pubblico è in gran parte quello maggiormente ammalurato, però entra in gioco in questo progetto come una risorsa fondamentale dalla quale partire. dentro un contesto di politiche, che è un contesto per la prima volta di grande possibilità. Il piano di interventi per la città vecchia è un piano attorno al quale si concentrano risorse stanziate dal contratto istituzionale per Taranto, nonché dai fondi SISUS, per quasi 300 milioni, 290 milioni che devono finanziare 28 diversi interventi, sia di natura materiale che di natura immateriale, o su singole emergenze architettoniche o su aree e comparti come quello che viene affidato allo sviluppo del progetto che come Capacity e con i nostri partner sviluppiamo, che è quello in violetto al centro dell'isola, un'occasione unica sia per capacità di incisività che per estensione degli interventi. L'intera isola madre di Taranto è oggetto di un piano di intervento, un piano di intervento che si confronta anche nel definire le proprie linee di azione, con una serie di processi e di dinamiche di rivitalizzazione che per quanto fragili, embrionali e diciamo pionieristiche si stanno già compiendo. Queste dinamiche di rivitalizzazione vedono anche un timido ritorno ad abitare la città vecchia, soprattutto vedono un ritorno di attività di tipo ricettivo ad esempio, legate ad esempio al grande sviluppo turistico che vede l'intera regione, soprattutto il Salento, emergere come meta privilegiata del turismo non solo nazionale, nuova nascita di attività di tipo commerciale legate a quelle ricettive, attività in parte anche finanziate da azioni pubbliche legate all'artigianato, al ritorno degli antichi mestieri, alla nascita di start-up, di spazi di co-working, attività che per esempio sono legate alla riscoperta di Taranto come sito di interesse della Puglia Film Festival per la produzione di lungo e cortometraggi. La città vecchia di Taranto è un set ricorrente in moltissime produzioni per il cinema e la televisione, attività che sono anche legate ad alcuni servizi di rango superiore, in particolare i servizi per l'istruzione superiore, quelli universitari. Nella città vecchia di Taranto ci sono tre sedi universitari, insieme ad altre sei sedi che si dislocano sull'intero territorio urbano, ci sono anche alcune importanti evidentemente sedi di amministrazione, tutto questo crea le condizioni per un'attrattività sulla quale però bisogna lavorare anche provando a ragionare su che tipo di offerta abitativa si può costruire per quali target. I racconti che proviamo a raccogliere sul campo parlano di scelte di ritorno a vivere nella città vecchia che sono scelte molto profonde, molto personali, talvolta che si scontrano con notevoli fatiche, dalle più banali, la difficoltà per esempio di intervenire fisicamente su un patrimonio immobiliare che è fatto di tutti vincolati, quindi con le lentezze legate all'interazione con le sovrintendenze, con i limiti di un piano di risanamento della città vecchia che è un piano illuminato, è molto ambizioso ma che appunto domanda molto a chi interviene su questo contesto e che però diciamo mettono in evidenza anche come l'abitare l'isola madre, l'abitare la città vecchia risponda a un'idea di se stessi e della propria vita in qualche modo completamente diversa e completamente nuova rispetto alla più generale intenzione e idea di abitare a Taranto. Abitare la città vecchia significa spesso abitare in un luogo fra due mari, quindi in un luogo molto vicino al mare, in un luogo lento, in un luogo che non è accessibile o con molta fatica alle automobili, un luogo dove non si può parcheggiare, un luogo in cui si abita in case che sono spesso cielo-terra di proprietà, dove i piani terra sono spesso un po' un tema da ripensare perché sono difficili da abitare, sono più bui, affacciano direttamente sulla strada ma sono anche spazi che possono essere pensati come spazi accessori rispetto a quello della casa vera e propria. Pertanto il racconto dell'abitare la città vecchia si configura in queste interviste come un racconto assolutamente specifico e personale. È da questi stimoli che noi cominciamo a elaborare il concetto di casa più come un modello di abitare che deve rispondere alla scommessa di tornare alla città vecchia partendo da una considerazione, offrire una semplice soluzione abitativa per quanto a basso costo rischia di non essere sufficiente per riportare le persone a Taranto, serve una proposta integrata che metta assieme casa e servizi cercando di cogliere le sinergie con le dinamiche di rivitalizzazione più ampie che sono in atto e che si leggono nel contesto. I target quindi di riferimento vengono definiti a partire dagli ambiti tematici del piano di risanamento della città vecchia, quelli legati ai sistemi della cultura, del turismo lento ed esperienziale, del commercio di qualità, dell'enogastronomia, dei servizi legati soprattutto all'alta formazione, all'università e alla ricerca o delle nuove economie legate alle imprese smart, all'artigianato, alle nuove professioni. Da questa riflessione sui possibili target e sui servizi che si può immaginare di integrare con il servizio abitativo, cioè con l'alloggio, nasce l'idea per l'appunto di casa più come di una casa che si compone di un alloggio più gli spazi per i bambini nel caso delle nuove famiglie, gli spazi commerciali, gli spazi per i laboratori e le botteghe, gli spazi per l'ospitalità, cercando in qualche modo di fare leva sull'attrattività turistica del sud e di Taranto, spazi da offrire a percorsi formativi, al lavoro e all'incubazione d'impresa. Cercando in qualche modo di fare riferimento ad una serie di best pratiche di modelli che si vanno diffondendo, non solo al sud, tenendo insieme in un'ipotesi di mix funzionale la casa e gli altri spazi, la casa e le altre funzioni, integrando il più possibile politiche abitative in politiche rivolte ai servizi e ai temi dello sviluppo e provando a pensare mix tra diversi tipi di utenti e diversi titoli di godimento, cioè diverse formule di offerta di abitare, la proprietà, l'affitto, l'affitto temporaneo. Una parentesi ai modelli e ai riferimenti per osservare come Taranto ponga alcune specificità. Uno, il contesto è quello di un centro storico, il riferimento per esempio in questo caso è stato al progetto delle sette porte nel centro storico di Bologna, è un progetto che punta a tenere assieme forme di offerta differenti, di nuovo un caso bolognese, Porto 15, che è stato tra i primi co-housing in Italia a iniziativa pubblica, tenendo assieme forme di abitare condiviso, affitto a lungo e a breve termine e spazi destinati alla comunità, supportati da servizi di accompagnamento, quindi da quello che abbiamo indicato come uno dei pilastri del modello consolidato di housing sociale, cioè la gestione immobiliare sociale. Una nota sul fatto che nell'esperienza consolidata del social housing italiano, non soltanto il sud è stato un territorio difficile da affrontare, lo sono stati centri storici, mentre ad esempio nell'iniziativa dell'Agenzia Nazionale per il Rinnovamento Urbano, la Rue francese, nei 450 quartieri che lo Stato francese ha identificato come oggetto di intervento, c'è tutta una linea specifica, un programma che vede i centri antichi come oggetto privilegiato di interesse, tant'è che ci sono dei progetti di social housing che riguardano soprattutto il recupero dei centri antichi di alcune città del sud della Francia, penso ad esempio a Toulon. Come pare a realizzare un intervento di questo tipo, con questo tipo di ambizione e che punta a vincere questa sfida, con quali strumenti, con quale ruolo per la pubblica amministrazione? Il lavoro che abbiamo provato a sviluppare a Taranto ha messo a confronto degli scenari, scenari che riguardano l'impatto sugli spazi, da uno scenario più semplice a uno scenario più complesso, quello più semplice identifica degli isolati chiave, quello più complesso prova a costruire condizioni per un intervento estensivo, che riguardi non solo il comparto che è oggetto del nostro studio, ma anche quello adiacente in modo tale da agganciare il fronte verso il mare, è uno scenario intermedio che invece identifica una sezione significativa, una sezione chiave, provando a dire che si fa un intervento di carattere diffuso su una parte, immaginando che questa parte costituisca il modello su cui sviluppare in un secondo tempo la parte successiva. I tre scenari si differenziano non soltanto per complessità e per estensione, ma per capacità di generare offerta e in relazione a questa capacità di offerta, ai numeri di alloggi realizzati, anche capacità di intercettare un numero più o meno ampio di target differenti e di produrre più o meno spazi da destinare a nuovi servizi integrativi all'abitare, locali e urbani. In sintesi, i tre scenari prevedono interventi più puntuali o più estensivi e soprattutto prevedono una modalità differente di stimolare e intercettare l'intervento privato. Nello scenario 1 l'ipotesi è quella di stimolare l'intervento privato attraverso incentivi e agevolazione. Nello scenario 2 l'ipotesi è quella di un coinvolgimento di partner per lo sviluppo di una forma di parternariato pubblico privato. Il terzo scenario, proprio per la sua complessità, estensione e per l'entità della spesa prevista, prova a confrontarsi con l'ipotesi di costituzione di un fondo di sviluppo immobiliare o di conferimento in un fondo. Non mi dilungo sulle ipotesi specifiche dal punto di vista della strategia di attivazione del capitale privato e dal punto di vista delle procedure. Sono evidentemente diverse. La formula del parternariato pubblico privato è quella un po' più classica che prevede una procedura a evidenza pubblica che individui un partner, un soggetto attuatore che si occupi tanto di realizzare gli interventi edilizi che di gestire. La formula del fondo è quella più complessa, prevede appunto che si tratti di un fondo di finanza etica, prevede che il fondo stesso individui un gestore immobiliare sociale, prevede che il pubblico acquisisca e ceda la totale proprietà degli immobili, quindi procedendo anche ad atti di esproprio. Dal punto di vista finanziario i tre scenari evidentemente hanno delle soglie di costo molto diverse. Il tema è che cosa succede quando la soglia di costo prevista sullo scenario più complesso e più estensivo supera la capacità finanziaria delle dotazioni stanziate dal piano di sviluppo della città vecchia. Il terzo scenario stima un totale dei costi di intervento di quasi 70 milioni di euro a fronte di 30 milioni di euro di disponibilità già stanziate, valutandosi anche che anche l'intervento del capitale privato non è possibile se non garantendo che ci sia un contributo a fondo perduto che copra almeno il 70% del valore stimato. Perché? Su quest'ultimo dato che mi soffermo, perché la condizione di Taranto è la condizione di una città che non è in crescita, in cui l'offerta di stock abitativo è sovrabbondante rispetto alla domanda e in cui si sta provando a intervenire su di un patrimonio, che è un patrimonio già esistente, storico, vincolato in un contesto anche fisico difficile e pertanto la compensazione tra i canoni inferiori a quelli di un mercato già basso e l'investimento iniziale che è necessario a mettere a disposizione questi alloggi costruisce un gap. Pertanto la sostenibilità finanziaria o un intervento di questo genere è possibile soltanto a fronte di una spesa pubblica molto alta. È per questo che Taranto rappresenta dal nostro punto di vista una sfida, perché in qualche modo ci porta a domandarci che cosa significa quando le condizioni del mercato non sono tali da consentire l'offerta di alloggi a canoni inferiori a quelli di mercato, ma comunque tali da consentire di remunerare in 25 anni gli investimenti fatti. E soprattutto la sfida Tarantina riguarda anche le diverse modalità con le quali la pubblica amministrazione deve farsi motore di queste azioni. Nel caso dello scenario 1, nello scorrere e nel confrontare fra di loro gli scenari dall'1 al 3, il diverso ruolo e i diversi strumenti di cui l'amministrazione pubblica deve dotarsi sono evidenti. Lo scenario 1, ad esempio, è quello che offre maggiori opportunità di sperimentazioni e maggiori chance anche di sviluppare nuove competenze all'interno dell'amministrazione, seppure l'impatto demografico atteso è più contenuto e le prospettive di stabilizzazione della nuova comunità di abitanti sono più deboli. Nel caso dello scenario 3, viceversa, l'impatto demografico atteso è molto alto e tale da invertire il trend di spopolamento dell'isola madre. Un elemento a favore è quello di sviluppo di capacità di gestione dell'operazione che evidentemente configurano un modello di management esperto. Allo stesso tempo però l'entità dell'intervento corrisponde a un rischio di fallimento più alto e appunto la determinazione dei costi molto alti degli interventi fisici necessitano del reperimento di altre forme di cofinanziamento. A conclusione di questa prima parte proviamo quindi a riassumere rispetto al modello di housing sociale per come si è consolidato nell'esperienza del fondo di investimento per l'abitare e dei fondi locali di sviluppo come il fondo di Lombardia. Una serie di sfide che rappresentano l'evoluzione di questo modello e la sua diffusione. Abbiamo provato a riassumerne e a richiamarne tre. Con l'idea che questi tre punti possano diciamo costituire uno stimolo e uno spunto alla discussione alla quale vi invitiamo a conclusione di questa prima parte, le sfide secondo noi sono quella dell'integrazione fra livelli e strumenti di politiche di welfare, ripensando quindi le politiche della casa come parte di un sistema più articolato di politiche per l'inclusione e di politiche per lo sviluppo dei territori. La seconda sfida è quella che riguarda la diversificazione dell'offerta, integrando tra di loro le possibili risposte, in particolare ridefinendo i campi rispettivi del cosiddetto public housing e dell'abitare sociale privato e costruendo sinergie fra l'abitare pubblico e l'abitare sociale privato. Infine la terza sfida riguarda proprio il tema su cui ci siamo soffermati, cioè la qualificazione dell'offerta, con un'attenzione nuova ai legami che esistono tra condizioni dell'abitare e sviluppo nella prospettiva della rigenerazione urbana. Questa prospettiva della rigenerazione urbana secondo noi implica almeno due elementi di attenzione. L'introduzione di categorie di descrizione dei territori e un'attenzione nuova al progetto dei servizi come catalizzatori delle comunità e attivatori del territorio. Io interrompo la condivisione qui per lasciare spazio a considerazioni e a domande. Marcello non so se vuoi condurre tu questo momento di confronto e di interventi dall'esterno. Io provo giusto per rompere il ghiaccio facendo un po' l'avvocato del diavolo a far finta di essere un partecipante che fa un po' come Marazzullo che si fa la domanda e si dà la risposta, ma almeno così rompiamo il ghiaccio e proviamo a entrare nel merito di una discussione che ci piacerebbe molto fare con voi. Mi immagino che un possibile ascoltatore, uditore ci dica ma che cosa c'entra tutto quello che ci avete raccontato con la programmazione delle politiche abitative? E la risposta evidentemente porterebbe via un'altra ora, quindi io non la la do almeno soltanto per un flash e cioè è evidente che dal discorso che abbiamo fatto finora un piano, un programma di politiche abitative e sociali non può riguardare soltanto il tema immobiliare. È evidente da quello che abbiamo detto finora che se è vero che l'audio sociale può essere considerato una leva di nuova attrattività dei territori, dentro un piano, dentro un programma di sviluppo delle politiche abitative e sociali di un territorio va inserito un ragionamento, una riflessione su quelle che sono le attuali condizioni di attrattività del territorio, di quelle che non lo sono e di quelli che possono essere dei driver e degli aspetti su cui lavorare. Quindi vuol dire ragionare in maniera integrata sul tema dell'accoglienza della casa con il tema dello sviluppo e della trasformazione di un territorio. Cioè da questa visione della politica abitativa sociale come occasione di riscatto e di rilancio di un territorio viene fuori un modo diverso di guardare al proprio ambito. Quindi questo è il primo stimolo che vi proponiamo, voglio capire se un po' lo condividete nel momento in cui vi apprestate a fare la programmazione di politiche abitative e sociali, se condividete con noi che il punto di partenza debba necessariamente essere un ragionamento sul ruolo che l'ambito ha nel territorio più ampio, sulla sua capacità attrattiva o quella che aveva e quella che ha perso e quelli che sono i suoi potenziali target di riferimento. Se poi qualcun altro dicesse perché ci avete preso Taranto e non situazioni un po' più vicine e più su misura, la rimando alla seconda sezione che invece presenterà dei casi più piccoli più e più alla portata. Grazie a tutti intanto per gli interventi. Io avevo dichiarato la mia curiosità e insomma è stata sicuramente ulteriormente sollecitata e allo stesso tempo questa prima parte della presentazione ha evidenziato, qui lo ammetto, la mia profonda ignoranza rispetto a queste tematiche, per cui quando Nicola diceva queste cose forse le conoscete già tutti, per quanto mi riguarda come referente delle politiche sociali del mio territorio, sono temi che invece dichiaro senza paura, sono abbastanza lontani dal nostro abituale linguaggio, dalla nostra abituale prospettiva di ragionamento, per cui si riconferma l'importanza di questi momenti formativi e è fondamentale per quanto mi riguarda che le nostre strutture, i nostri servizi, gli uffici che contribuiamo a portare avanti acquisiscano delle competenze che in questo momento, almeno io personalmente e poi magari i colleghi mi smentiranno, non abbiamo, non abbiamo e quindi il lavoro da fare su questo fronte è molto importante. L'altro aspetto che è fondamentale è probabilmente trovare quelle partnership all'interno dapprima delle nostre pubbliche amministrazioni, quindi dei nostri comuni, di quegli uffici e di quei servizi che storicamente si sono occupati invece degli aspetti patrimonali, degli aspetti immobiliari con cui a volte discutiamo, a volte abbiamo, diciamo, occasione di lavorare assieme, ma con cui dobbiamo, a mio avviso, questa è la mia opinione, costruire tanto e provare a invastire proprio delle partnership intanto all'interno delle nostre strutture come pubbliche amministrazioni. Forse poi possiamo pensare anche di guardare a tutto quel mondo dei fondi, delle società di investimento, di tutta quella parte molto interessante che ci avete raccontato, però ecco io penso che per quanto ci riguardi, mi riguardi, c'è delle premesse da costruire prima di poter incidere in modo significativo e poter dare un contributo. Io vorrei richiamare una cosa, abbiamo cominciato dall'indicare e dal ricordare a tutti come nella struttura della legge 16, quando si parla di servizi abitativi, ci si basa su questa sorta di tripartizione, i servizi abitativi sono pubblici, sociali e transitori. Per ciascuna di queste fattispecie esistono degli strumenti, delle modalità attraverso cui si può produrre nuova offerta, l'edilizia agevolata, l'edilizia convenzionata in particolare per tutto quello che riguarda la cosiddetta fascia grigia, ma nelle premesse della legge 16 ci sia l'idea che queste tre componenti non siano tra di loro disgiunte, stanno dentro un'unica azione politica e talvolta mostrano la propria massima efficacia quando stanno nello stesso spazio, quando condividono lo stesso spazio della città. Adesso nella seconda parte dell'azione magari su questo torneremo più diffusamente, ma abbiamo ritenuto importante partire dall'esperienza del FIA e dall'esperienza del FIA proprio per ricordare che queste leve, quelle degli investimenti finanziari, possono essere pensate come strumenti per consolidare un'offerta che non è alternativa o semplicemente integrativa a quella dei servizi abitativo sociale, ma deve essere pensata come sinergica, cioè può essere pensata assieme. L'abbiamo richiamata perché ad esempio in alcuni degli interventi più interessanti, quelli più famosi, penso per esempio all'intervento dei ceni di cambiamento a Milano e soprattutto facendo leva su uno degli strumenti attraverso cui questi interventi si danno, cioè l'edilizia convenzionata, nell'atto della convenzione, spesso le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo fondamentale nel trattare cessione di beni, ad esempio i suoli e progetti e progettualità, in modo tale che le progettualità tengano le componenti dentro assieme e quindi si evitino interventi che guardano ad una sola fascia, ma invece si costruisca complessità, si costruisca complessità supportata nella sua prospettiva comunitaria anche dalla dimensione dei servizi. Su questo torneremo diffusamente nella seconda parte, ma mi sembrava importante richiamarlo qui, soprattutto sottolineando il fatto che questo modello non deve essere pensato come un'altra cosa rispetto allo sviluppo delle politiche pubbliche, ma questo è uno dei tasselli delle politiche pubbliche. Buonasera a tutti, sono Grazia Campese, sono assessora al comune di Bucinasco, ovviamente ho anche la delega alle politiche abitative. Chiedo scusa anche perché purtroppo mi sono inserita con un ritardo e quindi magari avete detto cose interessanti e che sono, magari già mi avete risposto o avete già detto qualcosa a quello che voglio dire. Allora l'ultimo intervento di Nicola è perfetto, di fatti noi stiamo per approvare il PGT ed è verissimo, nonostante che io sia molto ignorante in materia ed è vero, quindi si sposa bene questo momento per poter pensare a un housing sociale, a edilizia convenzionata. Il problema è che noi abbiamo il sentore forte anche che a chi vorrà, come si dice, dare una ristrutturazione a un immobile o a una vecchia azienda che vuole, chiaramente vorrà costruire appartamenti, non gli interessa assolutamente un'edilizia convenzionata, anche perché poi è venuto fare. Poi vediamo, magari sono solo parole, quindi vedremo entro la fine dell'anno quando il PGT si approverà, ma anche perché per esempio nella nostra città, nel nostro paese di 27 mila abitanti abbiamo 133 alloggi di Aler che sono chiaramente conciati. Noi litighiamo perennemente tutti i giorni con Aler perché i cittadini chiaramente non hanno ancora, cioè hanno capito che è Aler che risponde, però dice va bene, caro comune, noi siamo sul tuo territorio, quindi tu ti devi preoccupare di noi, quindi vai da Aler, arrabbiati, fai quello che vuoi, ma noi non possiamo avere ancora l'amianto, avere l'acqua che dal quarto piano al settimo non arriva, è un disastro insomma. E quindi questo è un problema grosso, che i cittadini poveretti già non sono benestanti, sono per lo più pensionati, sono più per la gente che ha bisogno anche socialmente e quindi è un disagio enorme. Ma il nostro bisogno è avere ancora altri appartamenti, noi siamo legati a un'agenzia dell'abitare a cui abbiamo dato quattro case comunali da gestire, ma sono pochi, cioè nel senso quattro case comunali da gestire a secondo il bisogno di indigenti, di donne che scappano da un marito maltrattante e quindi proprio detto brutalmente, quello che a noi manca sono proprio gli appartamenti e pare che gli immobiliaristi, i costruttori non hanno nessuna intenzione di mischiare la convenzionata, come se Bucinasco fosse poi, non ho capito, un centro storico e con l'edilizia privata, ecco quella di lusso tra virgolette, quindi io non so dove sbattere la testa, cioè veramente la delega che più mi fa, che più mi preoccupa e mi dà dolore, ecco. Grazie. Sono Farinotti, lavoro in due contesti diversi, media pianura bergamasca, l'ambito di Brumero del Monte e una valle piccola, valle in magna a Villa del Me. Diciamo seguendo quello che diceva Marcello, aggiungerei questo tipo di ragionamento. Il primo, l'approccio è assolutamente condivisibile. Secondo ragionamento, o meglio secondo passaggio, ovviamente, ma l'hanno detto in premessa i due relatori, questo approccio va declinato evidentemente in un contesto, quello bergamasco, che sostanzialmente tra le 5, 6, 7 realtà di 15, 20 mila abitanti poi sono tutti comunelli molto piccoli e questo è un dato. Il terzo credo sia creare le condizioni per poter operare. Cioè, noi credo che abbiamo davanti su questo tema tre passaggi che sono ineludibili, perché l'ha detto forse implicitamente Marcello, cioè noi abbiamo ricevuto una virgolette, non so se chiamarla delega, se indirizzo come piani di zona sul tema, diciamo, dell'abitare, delle politiche abitative, ma ci è stato dato in modo, come dire, en passant, ok? Quindi noi non abbiamo nessuna, proprio dico nessuna, come dire, attenzione organica su questo tema, perlomeno io parlo per me, diciamola così, quindi so che non sbaglio. Allora, i passaggi da fare sono tre. Il primo è garantirsi, e quello di questa sera e delle prossime serate va in questa direzione, uno spazio di conoscenza, cioè bisogna conoscere. Io non conosco nulla, per non dire parolacce, non conosco proprio nulla. E quindi ho bisogno di, io per dire, chi deve fare un'impostazione di piano di zona anche sulla casa, deve capire di cosa sta parlando. Secondo passaggio, credo che, quindi oltre alla competenza, che secondo me non va solo comperata, ma va acquisita bene da parte del territorio, se no si rischia di attaccare una cosa che poi non si attacca bene. Secondo passaggio è legato invece, credo, a un atteggiamento che è quello, passatemi il termine, del sociale che deve ovviamente imparare. Dall'altra parte ci deve essere però, a fronte di una competenza che cresce e si spera nel sociale, anche un'attenzione da parte di chi porta le competenze, chiamiamole sul tema nuovo, di ascolto profondo della specificità sociale. Non mi sto riferendo a voi, che so che avete già nel vostro DNA questo tipo di meccanismo, però non diamo per scontato che i due mondi da subito si siano capiti. Io non lo do per scontato, ho senato tre, quattro, cinque cose ma avremo modo magari negli incontri successivi che presuppongono delle chiarezze che oggi non ci sono dal mio punto di vista. Terzo passaggio ovviamente si spera dopo le competenze acquisite, un atteggiamento di reciproco ascolto e di definizione di possibilità, arrivare a un'attuazione X. Chi mi ha preceduto parla di cose che io non conosco nemmeno e quindi magari quello è un livello più evoluto, io sono ancora indietro, cioè dobbiamo definire come dire le fondamente di una nuova casa, giusto per usare un meta ragionamento e decidere cosa facciamo nei prossimi tre anni sul tema delle politiche abitative. Chiudo dicendo che mi fa piacere anche l'introduzione del presidente del distretto di Treviglio che credo riassuma bene un concetto cardine, cioè noi dobbiamo collegare un disegno, mi permetto di dire, non sto parlando dei politici, è un disegno complessivo su questi temi che mi sembra non ci sia, quindi un tema di visione, di visione che deve portare ad alcuni obiettivi, non tanti, alcuni però sì, che siano declinabili in un ambito territoriale e non solo in un capofila di ambito territoriale e come posso dire e chiudo, a fronte del disegno e a fronte degli obiettivi creare, istruire meglio, credo ci sia bisogno proprio di una fase istruttoria, per lo meno, io parlo per quello che vedo io da me, una fase istruttoria che crei le condizioni a che noi possiamo confermare, non solo per adempimento regionale, per essere seri dobbiamo confermare che faremo una progettualità o meglio una pianificazione su questo tema, ripeto, per noi complimenti perché il quadro che avete cominciato a dare rende, chiaramente non penso a Taranto, non penso a Parigi, penso a Berbenno, non so se conoscete, ma insomma quello ci arriveremo, lo tradurremo, però diciamo che l'impostazione è assolutamente eccellente, ringrazio per questo. Grazie a lei dell'intervento. Grazie, volevo soltanto, proprio per non perdere il filo del ragionamento molto interessante proposto da Farinotto, volevo soltanto due commenti proprio a valle, uno partendo dall'ultima cosa, la fase istruttoria credo che sia una componente fondamentale se non prioritaria della programmazione che viene richiesta dalla 16, cioè nell'impianto peraltro del piano triennale richiesto dalla 16 c'è proprio uno spazio ampio dedicato all'istruttoria del territorio e che diventa come dire la condizione proprio per programmare gli interventi, perché io faccio i conti con le risorse che ho, faccio i conti con i problemi che il mio territorio ha e con le potenzialità che esprime e sulla base di quello imposto la mia strategia. Quindi io credo che proprio la fase istruttoria sia l'elemento di partenza indispensabile di qualunque attività di programmazione, ma questo in qualunque territorio, in qualunque contesto. Ancora più interessante il tema della responsabilità, se lo capita bene, che viene data in capo al settore sociale di questioni e di temi che non sono di sua propria competenza storicamente, quindi che ha a che fare, lo vedevo che anche in chat alcuni hanno scritto c'è un problema di competenze che mancano. Però attenzione, io credo che il senso di questo cambio di prospettiva proposto dalla legge 16 e di questa situazione che vede oggi la programmazione delle politiche abitative in capo alle politiche sociali è legata non tanto alla necessità e all'impellenza di far acquisire a questi settori delle competenze che tipicamente risiedevano in altri settori, ma alla sottolineatura di quella che è la priorità della politica abitativa, cioè il risultato atteso, l'impatto sociale. Cioè il tema non è, la politica abitativa non è finalizzata a produrre un bene, un prodotto, un risultato come era allora, cioè io mi sono risolto il problema al momento in cui ho costruito quattro mura, a quel punto ho risolto il problema. No, il problema è la soddisfazione del bisogno abitativo, è la creazione delle condizioni molteplici che consentono di gestire il bisogno abitativo e il presidio di questa priorità, di questo impatto non può che stare in capo alle politiche sociali, che poi si possono pensare di lavorare attivando vari strumenti. Alcuni sono quelli che abbiamo prefigurato, altri li faremo vedere forse più semplici e meno complicati, sono quelli che si possono attivare in altri contesti, quindi io credo che l'elemento non debba spaventare il fatto che ci sia questo nuovo campo d'azione che viene affidato in termini di responsabilità a un settore che usa altri linguaggi, altre competenze, altre attenzioni, ma è l'emblema della priorità che viene affidata al risultato. Nei diversi territori si produrranno diverse tipologie di interventi e di progetti e di modelli per conseguire il medesimo risultato, e il medesimo risultato essendo la soddisfazione di un bisogno abitativo che fa parte di un percorso di benessere, in questo senso entra nel meccanismo di welfare, di benessere territoriale che sta in capo, la cui responsabilità sta in capo alle politiche sociali. Evidentemente questo non impone, non presuppone che vi sia all'interno delle politiche sociali la completa dimestichezza con tutte le possibili strategie, gli strumenti e le risorse che possano essere attivati per conseguire questo risultato. C'è un intervento, ha chiesto la parola Lucia Bassole. Non la sentiamo? Ah scusate, certo devo attivare il microfono. Rispetto a quanto si diceva, molto interessante l'intervento fatto precedentemente, ma anche tutta questa integrazione fra i vari piani, a me è quello che riesce più, ho capito questo trasferimento che è anche all'interno della legge 16 e che stiamo un po' facendo nostro, in cui il fabbisogno abitativo non è un fabbisogno sulla materialità, ma è un fabbisogno in virtù di risposta dei bisogni dell'abitare della persona, intesa quindi su più aspetti. Questa cosa interessantissima, molto complessa e se come dire fare uno studio di fattibilità basandosi sugli aspetti materiali della questione è un conto, riuscire a fare come viene richiesto una mappatura del fabbisogno, proprio se lo intendiamo in questa accezione così olistica della persona, del suo, sicuramente interessante, ma sicuramente non così facile, né dal punto di vista dell'analisi del fabbisogno, né dal punto di vista di questo aspetto che lei diceva molto anche valido, che è quello poi di valutare l'impatto di quello che si fa sui territori, che come dire rispetto a costruire degli immobili ci viene più semplice, concettualmente intendo. Dal punto di vista del capire quanto questa cosa ha risposto ad un bisogno abitativo diciamo che su questo per fare un bel lavoro probabilmente dobbiamo approfondire un po' in questo forse la competenza dei colleghi si sente un po' fragile perché ci si addentra in una dimensione che è una dimensione che ha tanti aspetti e che non è così semplice indagare sia in termini di progettualità sia in termini di valutazione dei risultati, questo non toglie interesse alla cosa, assolutamente. Ci sono altri interventi, altrimenti riconosciamo con la seconda parte della relazione. Forse su questo ultimo intervento se posso anche io fare un commento, mi viene da dire che forse è interessante come anche in qualche modo l'economia o la sociologia stanno affinando degli strumenti di valutazione del bisogno che sono più raffinati, soprattutto mettono in questione la centralità della dimensione economica, anche nel concetto di nuove povertà, l'introduzione di elementi di attenzione ai temi dell'accesso ai servizi, dell'accesso alla formazione, elementi che peraltro anche nel bando del programma innovativo nazionale della qualità dell'abitare che Paolo Cottino ha citato all'inizio di questa conversazione, di questo pomeriggio, erano molto attenzionati, sono per noi probabilmente una risorsa e sono un punto d'attenzione se di nuovo la prospettiva che usiamo è quella delle infrastrutture sociali. Per cui anche appunto su come misurare il bisogno, anche diciamo in un'accezione diversa che in qualche modo guardi al di là dei redditi, forse varrà la pena di fare delle riflessioni. Nella seconda parte della lezione per esempio appunto riflettendo sui target di domanda, sulla definizione di nuovi target di domanda, esporremo anche delle considerazioni su come i bisogni siano spesso anche bisogni che vanno al di là della dimensione economica. Va bene, allora direi che possiamo procedere con la seconda sezione che comunque conterremo nell'arco dell'ora che abbiamo a disposizione, quindi garantiamo di terminare nel tempo utile. Anche in questo caso io cercherò di fare uno sforzo di sintesi introduttiva, lasciando poi a Nicola di illustrare alcuni dei casi che abbiamo seguito nei mesi e nell'anno trascorso di progetti di housing sociale che avevano, hanno avuto l'ambizione più o meno esplicita di costruire, secondo il modello che vi abbiamo un po' descritto, una nuova attività di territori minori mi verrebbe da dire, di territori diversi dalle grandi città in cui siamo abituati a riconoscere i progetti di housing sociale realizzati con i meccanismi che Nicola vi ha descritto nella prima parte. Allora io ho alcune brevissime considerazioni introduttive, Nicola se vuoi girare la slide, il primo elemento è che quello che vi andiamo dicendo è e comincia a configurare un vero e proprio settore di intervento riconosciuto anche a livello esterno al nostro specifico perimetro d'azione. È di qualche mese fa questo articolo sul Sole 24 Ore, lo specifico dedicato alla casa, che identificava proprio anche con un'intervista a noi e a dei colleghi quanto si stia configurando, aprendo lo spazio per nuovi modelli di social housing che abbiano a differenza del modello classico, cioè che ha alle spalle investitori con capitali pazienti, quindi fondi immobiliari, le grandi città come ambito privilegiato di intervento, invece un modello che prova a lavorare in territori più piccoli con il coinvolgimento di soggetti privati, privati puri, quindi l'intervento del referente di Bucinasco è cruciale da questo punto di vista, cioè il modello di social housing che proviamo a elaborare anche sulla scorta di fondi e finanziamenti pubblici che servono proprio a incentivare questo nuovo coinvolgimento dei privati, è un modello di intervento che vede l'interesse specifico dei proprietari immobiliari sollecitato dalle opportunità del housing sociale. Evidentemente è un modello che prevede anche nuove professionalità proprio per garantire questi approcci con ricadute politiche sociali, evidentemente i settori delle politiche sociali all'interno dei comuni sono quelli che più di altri sono in grado di controllare la multidimensionalità del bisogno e dell'esigenza sociale, non a caso il piano di zona è lo strumento di pianificazione che più di altri coltiva la dimensione multidimensionale, però evidentemente c'è proprio l'attenzione a progettare i servizi, a disegnare i servizi con questa attenzione all'impatto sociale, quindi da una parte soggetti privati che possono essere sollecitati e incuriositi, dall'altra nuove professionalità, dall'altra ancora il focus sul tema del riuso. Sappiamo che nella maggior parte dei casi le esperienze di housing sociale che abbiamo visto e raccontate e considerate le best practices di riferimento sono quasi sempre nuove realizzazioni e invece il patrimonio, il patrimonio dismesso, il patrimonio immobiliare sottoutilizzato diventa, sta cominciando a diventare per queste nuove forme di audio sociale la risorsa principale da cui partire. Questo perché in molti casi i beni sono già disponibili, in alcuni casi sono addirittura già riattrezzati, pensate al tema dell'invenduto, molto caro a Regione Lombardia, il tema del patrimonio invenduto presente e disponibile in qualche misura già attrezzato sul mercato ma inutilizzato è scritto. E poi da ultimo ma non meno importante, a comporre questo nuovo scenario di impegno sul fronte delle politiche di social housing, i modelli ibridi che provano a combinare il business e il social, cioè all'interno anche dello stesso edificio la possibilità di coltivare e perseguire il bisogno sociale e il business su alcuni fronti, la soddisfazione di alcune domande solventi. Guardate bene che questo è un modello che diventa decisivo per garantire la sostenibilità di questi interventi di social housing, è una prospettiva tutt'altro che scontata ma attorno alla quale si può e si deve lavorare. Questa prospettiva che vi disegniamo va in questa direzione. Quali sono gli agganci, gli appigli possibili? Se vai Nicola alla slide successiva, vi sono alcuni settori di mercato, di un mercato nascente, quello dello student housing così come quello del senior housing, tradotto sono i settori dei nuovi servizi per la componente giovane e studentesca e per la componente anziana autosufficiente o semi autosufficiente, che cominciano ad avere una domanda solvente di mercato, per cui si stanno attivando operatori di mercato, per sviluppatori che sono interessati a rilevare in certi territori evidentemente beni pubblici immobili sottoutilizzati o dismessi per farne dei servizi che hanno la capacità di stare in piedi da soli. Allora la sfida è quella di provare a trovare una dimensione win-win e che veda quindi la possibilità di soddisfare dentro queste proposte, dentro questi servizi privati, convenzionati, anche delle forme di bisogno sociale diversamente non gestibile. La sfida, vedete, in questo caso potrebbe essere quella di tentare di coniugare o di soddisfare i bisogni degli studenti universitari fuori sede che nelle grandi città non trovano soluzioni accessibili, che invece potrebbero trovarle nei comuni facilmente raggiungibili con le linee ferroviarie o con i sistemi di comunicazione, piuttosto che giovani che sono all'inizio del percorso di vita autonoma della famiglia che necessitano, come dire, di opportunità di questa natura. Dall'altra parte abbiamo tutto il mondo degli anziani, sono soltanto due esempi, ma per farvi capire quelli su cui si sta cominciando effettivamente a manifestare e palesare un interesse del settore privato a cercare una convergenza con le politiche abitative. La domanda è quella degli anziani soli semi autosufficienti che cercano soluzioni parzialmente assistite, non già da RSA, non già da appartamenti protetti. E poi quello degli anziani soli che invece hanno da contrastare una condizione di solitudine che può essere contrastata con forme di abitazione condivisa. Ripeto, sono soltanto due esempi, ma due esempi che a noi è capitato di intercettare sempre più spesso e che vedono quindi un'opportunità per cercare la sinergia dell'interesse privato, a soddisfare queste domande solventi con l'interesse pubblico a soddisfare alcune domande sociali che dentro questi modelli potrebbero ben inserirsi. Se Nicola vai alla slide successiva, vorrei proseguire a sollecitarvi facendovi vedere che attorno a queste domande si vanno costruendo anche opportunità di finanziamento, cioè la stessa regione Lombardia, le stesse istituzioni hanno identificato nella sinergia fra questi modelli di intervento, quello privato e quello sociale, attorno a queste categorie specifiche, un possibile ambito di sviluppo da sostenere, da incentivare e da accompagnare. È in questa logica che è stato concepito il recente bando promosso da regione Lombardia che citiamo anche perché non ha avuto il successo che avrebbe potuto avere, forse proprio perché ma sono mancati dei momenti promozionali e di presentazione come quelli che in alcuni casi ci è capitato di fare presso i comuni in cui stavamo lavorando, ma che potrebbero diventare come dire competenza propria degli ambiti di promuovere. In questo caso si trattava di 24 milioni di euro messi a disposizione della regione Lombardia per progetti di housing sociale da massimo 3 milioni di cada uno, che potevano essere localizzati nei 133 comuni Lombardia appartenenti alle prime 5 classi di intensità di fabbisogno abitativo, quindi capite che ci sono dentro anche molti di quei comuni di cui stavamo parlando prima, che non sono le grandi città attrattive di per sé. L'obiettivo del bando era di mettere a disposizione nuove unità immobiliari da destinare alla locazione, che fosse permanente o temporanea, attraverso progetti di riuso e recupero. Il bando si intitolava proprio interventi volti alla realizzazione di nuove edilizie residenziali sociali, il recupero e la destinazione a servizi abitativi e sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato, quindi attenzione, non soltanto sui beni di proprietà degli enti, ma anche sui beni di proprietà privata. Potevano essere attivati meccanismi virtuosi di sinergia fra la domanda abitativa, l'offerta territoriale, quindi coniugando servizi abitativi con altre tipologie di servizi e attivando, attuando meccanismi di gestione sociale sperimentale, che sono quelli che la legge 16 vuole evidentemente immaginare di promuovere nei prossimi anni. Quindi un bando che di recente ha messo a disposizione, ripeto, del riuso del patrimonio pubblico non dei comuni e non di ALER, quindi un limitato campo di beni pubblici e invece di tutti i beni privati queste risorse. Noi ne abbiamo seguiti alcuni di cui poi Nicola vi racconterà, ma che ci sembrava in questa fase, in questa seconda fase della nostra riflessione, anche sulla scorta delle osservazioni che sono state fatte poc'anzi, importante richiamare. Perché se è vero che non è così scontato quale sia il modello a cui guardiamo, è vero che c'è la consapevolezza e la contezza da parte delle istituzioni che è questa la direzione da sostenere, da perseguire, da accompagnare e quindi non è un caso che siano stati promosse opportunità come questa. Vedrete poi come abbiamo provato ad aggredirle noi e a renderle dei modelli virtuosi di sviluppo di questa idea dell'economia sociale. Aggiungo un necessario e importante elemento ulteriore che è quello legato alla pandemia che evidentemente ha rappresentato, ha creato un ulteriore impulso nella direzione dell'attivazione di territori diversi da quelli strettamente urbani e di grandi dimensioni. Sapete che durante la pandemia c'è stato anche un po' di dibattito, di polemica sollevata da qualcuno che ha in qualche misura immaginato drasticamente che la conseguenza della pandemia avrebbe dovuto essere la fine della città e la rinascita dei borghi. Allora forse c'è una via di mezzo fra questi due estremi e la via di mezzo può essere quella che vede la valorizzazione del potenziale dei territori intermedi, delle aree, dei contesti che non sono le grandi città ma non sono neanche i borghi isolati, sono territori che hanno del valore e che attraverso la ricerca e la promozione di nuovi modelli di vita, di nuove soluzioni abitative potrebbe essere valorizzato a pieno. Cioè quella che oggi è il discorso, il dibattito sulla città dei 15 minuti in definitiva può essere facilmente applicato anche a dei contesti che non sono grandi città ma che possono offrire a nuovi abitanti occasioni e modelli di vita diversi da quelli che hanno sperimentato finora e che possono essere da questo punto disattrattivi. Cioè un intervento di abitare sociale ben congegnato anche piccolo in un territorio marginale può risultare per le ragioni che in parte sono difese anche dalla pandemia attrattivo nei confronti di abitanti che un tempo non avrebbero mai pensato di andare a vivere in quel contesto. Ripeto quindi si apre una nuova progettualità che vede la possibilità di soddisfare la domanda abitativa della fascia grigia in contesti in territori molteplici. Per farlo si tratta di saperli leggere e interpretare. E in questo senso diciamo che gli ingredienti essenziali per i progetti di welfare abitativo sono quelli che andranno mappati e studiati nell'istruttoria di cui si diceva prima e sono essenzialmente gli spazi da recuperare e da utilizzare. Cioè spazi che possano avere caratteristiche adatte alla tipologia di progetti di cui stiamo immaginando. È chiaro che non sempre e non tutti gli spazi possono prestarsi a questo genere di interventi soprattutto se si hanno a disposizione poche risorse. Per cui è chiaro che riconvertire ad uso abitativo uno spazio industriale è cosa diversa dal valorizzare in chiave di abitare sociale un ex albergo. Sto facendo degli esempi semplici ma per capirci. Quindi valorizzare, analizzare e mappare il patrimonio e gli spazi da recuperare facendo anche una valutazione del loro potenziale rispetto all'obiettivo. Punto 2. Studiare la domanda per nuovi servizi non soltanto per quelli abitativi ma per quelli che ai servizi abitativi potrebbero accompagnarsi. Abbiamo verificato e studiato che i servizi abitativi funzionano tanto meglio quanto più sono abbinati ad altri servizi, quanto si accompagnano con servizi complementari che in alcuni casi concorrono anche a cofinanziare. Insomma per capirci un immobile che al piano terra ha un supermercato e al piano superiore ha degli appartamenti di housing sociale è tanto più interessante quanto costituisce un modello in cui il supermercato, l'affitto del supermercato concorre a finanziare il recupero degli appartamenti di housing sociale. Mi spiego, cioè sono soluzioni interessanti che possono e devono essere studiati nella misura in cui si riesce a trovare una sinergia, un meccanismo virtuoso che non è virtuoso soltanto nella dimensione sociale del ragionamento. Certo i servizi integrativi principali, integrativi dell'abitare principale a cui pensiamo sono i servizi di accompagnamento all'abitante, sono i servizi di costruzione della comunità, questo è fuori di dubbio. Però è complementare all'abitare anche quello che costituisce un servizio anche commerciale ma che nell'ottica del convenzionamento serve a garantire la fattibilità della soddisfazione della domanda abitativa. È un tema complesso ma che ci tenevo a precisare perché noi cerchiamo sempre il più possibile di coltivare questa prospettiva che è la prospettiva che da una parte costruisce l'attrattività perché è chiaro che di per sé l'abitare non è l'unica condizione di attrattività, il servizio commerciale puro concorre a rendere attrattivo un territorio ma lo rende interessante e di valore per le politiche nella misura in cui tramite atto di convenzione diventa l'elemento che garantisce la fattibilità della soddisfazione della domanda sociale. Da ultimo l'opportunità e le risorse territoriali sono quelle che rendono evidente qual è la vocazione dei territori, rendono interessante e possibile qualificare in modo specifico alcune offerte abitative. È chiaro che una tipologia di offerta di un certo tipo, di offerta abitativa di un certo tipo funziona in certi contesti, può darsi che non funzioni in altri. Va studiata qual è la dinamica di trasformazione e anche la caratteristica specifica del territorio per comporre un'offerta abitativa che abbia la sua significatività e la sua significativa attrattività. Allora da questo punto di vista su questi piccoli input credo vi dovrebbe risultare più chiaro e comprensibile la rassegna di esempi che adesso Nicola vi farà dei progetti che abbiamo costruito in territori e abbiamo proposto anche a Valere sul bando di cui vi dicevo ma non soltanto. Abbiamo proposto in territori che non sono territori di grandi città che però hanno avuto il merito forse per primi di cominciare a perseguire la prospettiva che vi abbiamo descritto come prospettiva di sviluppo e di rigenerazione territoriale che vede nella costruzione di un'offerta abitativa sociale una prima mossa, un primo elemento a cui poi successivamente in una logica incrementale provare ad agganciare altri pezzi e altre componenti. Però qui passo la parola a Nicola, provate a vedere se avete ancora una mezz'oretta di pazienza questi esempi che sono esempi collocati in diversi punti del territorio regionale, partiremo dal sud ancora una volta per poi tornare al nord e anche al contesto lombardo per farvi vedere cosa ha voluto dire a partire da questa opportunità a ragionare nella prospettiva di un modello abitativo sociale che tiene assieme le cose che vi ho detto prima. Aggiungo un dettaglio, nella declinazione di questi progetti per come ve li esporremo, il tentativo è stato anche quello di capire com'è che quel modello, quello che abbiamo provato a raccontare per come si è consolidato attraverso l'esperienza potente del fondo di investimento per l'abitare, invece trova attuazione o si ripensa quando cambiano le condizioni di realizzazione, soprattutto cercando di capire come gli elementi fondanti di quel modello, l'abbiamo detto, l'integrazione di abitare e di servizi integrativi, locali e urbani, la dimensione della gestione immobiliare sociale, il presidio di comunità e lo sviluppo di modalità e modi di abitare più collaborativi, come queste tre componenti si possono ripensare quando le condizioni alla fattibilità degli interventi e le condizioni dei contesti sono completamente diverse da quelle nelle quali invece si realizzano gli interventi della finanza immobiliare. Torno a condividere lo schermo, cercherò di essere rapida in modo tale da lasciare tempo sufficiente poi alla discussione e alle conclusioni. L'excursus riguarda dunque una serie di modelli di housing che sono in corso di sperimentazione nei nostri progetti, il primo che proviamo a presentarvi è uno dei progetti che è stato presentato e sviluppato nell'ambito delle proposte per il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, è un progetto che è quello che è sviluppato da una città pugliese che è la città di Altamura, città di Altamura che negli anni passati ha prodotto uno sforzo notevole di costruzione di condizioni nuove alla trasformazione del territorio e allo sviluppo attraverso soprattutto l'impegno della SISUS, dei programmi per lo sviluppo urbano sostenibile e nel Pinqua ha trovato un'occasione per costruire e innescare alcuni primi elementi di sviluppo della strategia SISUS. Il comune di Altamura ha presentato tre diverse proposte, tutte e tre giudicate ammissibili, pertanto ha ottenuto circa 40 milioni di finanziamento grazie al programma del Pinqua e Capacity è stata coinvolta in un'attività di affiancamento all'amministrazione nel tentativo di definire un modello ed una strategia di nuova offerta di servizi abitativi, in questa definizione ampliata di servizi abitativi sociali, in particolare è stata occasione di confronto e di prima aggregazione di attori del territorio attorno a questo nuovo modello di abitare sociale integrato, il progetto per l'ex convento dei Capocini di Altamura, un immobile di proprietà pubblica, vincolato, un immobile dismesso da moltissimi anni che si colloca in un'area particolarmente significativa perché è un'area di frangia, un'area nella quale il Comune prova a esemplificare una delle sfide principali che ha davanti che è quella di costruire condizioni per la riqualificazione di queste aree di frangia, di queste aree a metà fra la città e la campagna, dove la campagna è quella alle porte del Parco Nazionale dell'Alta Murga, sono aree agricole con produzioni e anche produzioni di eccellenza e pertanto il ripensamento di questo edificio in questo particolare contesto ci ha portati anche a confrontarci con tutta una serie di temi che hanno a che fare con lo sviluppo del territorio, con le sue economie e con le sue risorse. L'ex convento, abbiamo detto, è un edificio di proprietà pubblica, storico, vincolato, un edificio emblematico sia per la sua collocazione ma anche per la sua storia, per il posto che occupa nell'immaginario della comunità altamurana, è un immobile di circa 18 mila metri quadri con altrettanti metri quadri di spazi aperti, di superfici a verde e l'ipotesi di lavoro è stata quella di concepire un modello abitativo che guardasse a dei target che sono quelli che ha citato prima Paolo Cottino, da un lato i giovani soprattutto in percorsi verso l'autonomia abitativa, quindi giovani in uscita dai nuclei familiari e originari, giovani alle prime esperienze lavorative, soggetti sostanzialmente incapaci di affrontare sul mercato la ricerca di un alloggio ma anche incapaci di intercettare un'offerta che nel territorio non c'è perché c'è scarsezza di offerta per l'affitto e c'è scarsezza di alloggi di piccolo taglio, soprattutto non esistono nel territorio altamurano offerte di spazi abitativi che consentano forme di condivisione per persone sole. Da questo punto di vista i giovani erano uno dei target individuati l'altro target era invece quello delle persone anziane, delle persone che rimaste da sole non sono più in condizioni di vivere in alloggi che sono o troppo costosi o troppo grandi o che hanno serie barriere architettoniche o che comportano costi di manutenzione e gestione per un anziano solo non più sostenibili. Pertanto le formule alle quali abbiamo pensato erano formule che in qualche modo presupponevano forme di condivisione, di condivisione degli spazi, di condivisione del tempo ma anche di condivisione dei costi e soprattutto con riferimento ai giovani abbiamo immaginato una serie di servizi che potessero integrare la residenza e che fossero soprattutto rivolti a loro servizi non solo di accompagnamento all'abitare ma servizi che potessero configurarsi come pensati per lo sviluppo di forme di autonomia soprattutto professionale, quindi legati alla formazione, all'incubazione di nuovi progetti di imprese e di nuovi progetti lavorativi. Soprattutto grazie all'individuazione di disponibilità a mettersi in gioco di attori del territorio che lavoravano nel campo di alcune economie di eccellenza soprattutto quelle agricole anche in una prospettiva di riconversione dell'agricoltura verso il biologico e quelle legate alla formazione nei campi dell'industria agroalimentare. Perché abbiamo pensato di introdurre qui il modello dell'ex convento dei Capuccini di Altamura? Perché per questo progetto abbiamo soprattutto ragionato su come fare a strutturare un piano dei servizi che consentisse di reperire risorse per attivare forme di gestione immobiliare sociale, di accompagnamento all'abitare, soprattutto con riferimento a quello che si chiama community management, cioè gestione della comunità. Un servizio che normalmente nei casi consolidati di sviluppo di nuovo social housing e quelli del fondo di investimento per l'abitare sono come una delle componenti del servizio di gestione immobiliare sociale integrata. Le altre componenti hanno a che fare con il cosiddetto facility, cioè con la gestione manutentiva degli immobili e con il cosiddetto property, cioè con la gestione di tutti gli aspetti contrattuali. In questo caso abbiamo cercato di capire se lo sviluppo di questi servizi di gestione della comunità potesse diventare sinergico con lo sviluppo di servizi rivolto al territorio, quindi tenendo insieme delle dimensioni profit anche nella gestione delle aree verdi, per esempio, o nell'offerta di servizi remunerativi al territorio e invece la dimensione non profit dei servizi di gestione, di sviluppo e di start up della comunità. Da questo punto di vista nella definizione del gestore immobiliare sociale, nella definizione della sua identità e del suo ruolo e del suo mandato, è diventato fondamentale comprendere quale ruolo avrebbe giocato lo stesso comune di Altamura. Comune di Altamura che si è candidato a diventare co-gestore della struttura in una prospettiva di individuazione di un soggetto, soprattutto del cosiddetto terzo settore, quindi del privato sociale, capace di portare competenze e risorse e di affiancare il comune nello sviluppo di competenze che evidentemente il comune ancora non ha, nell'erogare servizi che sono servizi anche di gestione delle comunità, in una prospettiva di ribaltamento della logica del servizio come risposta ad un bisogno, ma invece provando a immaginare il servizio come servizio di sviluppo, di autonomia della capacità della comunità nel rispondere ai bisogni. Il secondo esempio che proviamo a costruire di nuovo ragiona su un modello complesso di offerta di servizi che da un lato consolidano, accompagnano e facilitano il formarsi di una comunità di nuovi abitanti, dall'altro si strutturano come servizi offerti al territorio e aperti al territorio. L'occasione per la costruzione di questa proposta e di questo progetto è stato il bando citato da Paolo, in questo caso il soggetto privato che metteva a disposizione l'immobile è la fondazione Bellora a Gallarate, fondazione Bellora che si è specializzata negli anni in una serie di servizi che hanno soprattutto a che fare con i servizi sociosanitari rivolti agli anziani, ma che negli anni passati ha sviluppato, acquisito intanto la proprietà di questo immobile che era una vecchia scuola di proprietà del clero, in adiacenza a un altro edificio che era già di proprietà della stessa fondazione Bellora, un edificio quindi totalmente dismesso e attualmente tutto di proprietà privata della fondazione, il progetto per il co-housing inclusivo e solidale, l'abbiamo chiamato così, si innestava all'interno di un quadro più complesso, di una progettualità più ampia che si era già avvalsa di finanziamenti, peraltro aveva anche ottenuto finanziamenti di fondazione Carico perché si era candidato come progetto emblematico, il progetto in questione è quello della costruzione di un centro specializzato per i disturbi dell'autismo, per la diagnosi precoce dei disturbi e una serie di servizi rivolti soprattutto ai bambini in età di più tenera età, questo progetto del centro per l'autismo è un progetto in corso di sviluppo, sono i piani segnati in rosa in questo disegno, i piani superiori invece di questo edificio non erano stati ancora inclusi in un progetto di trasformazione edilizia e di riuso e sono stati destinati appunto a un progetto di abitare, un progetto per un condominio solidale per cui il nostro lavoro ha riguardato tanto per cominciare l'identificazione dei possibili destinatari di questa offerta abitativa. I 13 alloggi previsti nella formula del co-housing e differenziati fra mini alloggi e alloggi più grandi in condivisione per un totale di 35 posti letto sono stati soprattutto destinati a famiglie inserite in percorsi di valutazione o di avvio alla riabilitazione di minori, quindi per locazione temporanea rivolta alle famiglie, ma anche giovani inseriti in percorsi di educazione e di accompagnamento all'autonomia abitativa, affetti da forme di autismo a medio e alto funzionamento, quindi soggetti capaci di autonomia abitativa ma a condizione che questa autonomia possa darsi all'interno di un contesto di comunità, una comunità che quindi è evocata ad accompagnare questi processi, questi percorsi verso l'autonomia e a proteggerla, a tutelarla. Abbiamo individuato come target potenziale anche i giovani inseriti in percorsi di studio o inserimento lavorativo, anche in funzione del fatto che Gallarate è una città sull'asse ferroviario Milano-Malpensa che quindi è in condizioni di grande e veloce connettività con il capoluogo, pertanto anche uno studente universitario che segua i corsi di studio a Milano in mezz'ora può raggiungere Gallarate in treno e di conseguenza può individuare in Gallarate un'offerta abitativa specifica, nonché famiglie che aspirino a un'esperienza di condivisione e solidarietà. Con questa proposta abbiamo quindi cercato di contemperare da un lato le caratteristiche diciamo universalistiche dell'offerta di abitare sociale per come è concepita dalla norma, dalla legge regionale 16, dall'altro però di targettizzare l'offerta declinandola su un progetto specifico che è un progetto di servizi integrati, abitativi e non abitativi, soprattutto provando anche a cogliere la sfida di costruzione di un campo di intervento per le politiche abitative che è oggi un campo non ancora definito, un campo che tendenzialmente sconfina in quello delle politiche invece socioassistenziali e che invece noi rivendichiamo come un campo proprio, perché il bisogno a cui si risponde qui è un bisogno di casa, di casa però in un contesto specifico, in un contesto di solidarietà, di condivisione e di protezione. Anche in questo caso il lavoro di capaciti è stato volto alla identificazione di un modello di gestione perché il bando di regione Lombardia stabiliva che l'ammontare del finanziamento poteva essere incrementato qualora l'offerta avrebbe previsto delle forme innovative di gestione degli immobili, in particolare includendo un modello di gestione immobiliare sociale integrato con elementi evidentemente di maggiore anche apertura al territorio. In questo caso Fondazione Bellora ha lavorato su alcune sinergie e parternariati che già erano attivi in modo tale da sviluppare le tre componenti del property, del facility e del community management, prevedendo anche che parte delle attività di community management fossero affidate a quella stessa comunità che si aveva l'obiettivo di costruire e consolidare attraverso le attività di startup. Un altro esempio che provo adesso a esprimere e che provo a raccontare e che di nuovo è stato concepito nell'ambito dell'occasione costruita da un bando regionale che è il bando che si proponeva di identificare i progetti a cui destinare le risorse stanziate dal Cite, è un progetto che è stato costruito insieme all'amministrazione Varesina nel quartiere di Biumo, di Biumo Inferiore, in particolare nel centro antico di Biumo Inferiore. Le premesse alla identificazione e alla ideazione di questo progetto in realtà affondavano in un incarico precedente conferito a Capacity insieme ad un partner che si era occupato degli aspetti finanziari ed economico-gestionali, un servizio che aveva riguardato la ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Varese. All'interno di questa attività di ricognizione avevamo provato a sviluppare una serie di scenari per la funzionalizzazione e la valorizzazione di questo patrimonio, alcuni degli scenari ai quali avevamo lavorato identificavano tutta un'area di lavoro con riferimento agli immobili che avevano già destinazione residenziale, agli immobili di edilizia residenziale pubblica, avendosi come in quasi tutti i casi da un lato necessità di intervenire sullo stock per riqualificarlo, per consentirne il pieno utilizzo perché anche a Varese c'era una parte di questi alloggi che non erano utilizzati perché inagibili e provando anche a declinare le prospettive che sono consentite dalla legge regionale 16 della valorizzazione alternativa alla vendita, quindi immaginando che alcuni di queste unità per un tempo potessero essere provvisoriamente destinate a servizi abitativi sociali anziché pubblici, quindi in qualche modo introducendo delle componenti di maggiore articolazione dell'offerta che però anche creassero condizioni di maggiore apporto di risorse finanziarie attraverso le quali ripagare interventi di recupero del patrimonio in disuso. Secondo un modello sul quale non mi soffermo ma che è quello consolidato, cioè ho degli immobili che sono in parte utilizzati, in parte inutilizzati perché inagibili, in parte non utilizzati perché in parte sotto utilizzati, io provo a costruire una strategia in cui la ridestinazione di parti che non sto usando e che provvisoriamente destino a fasce di utenza a reddito più alto e con canoni maggiori, mi servono a reperire risorse per recuperare quell'altra parte di patrimonio che non ho in uso perché è inagibile, in modo tale che complessivamente io possa aumentare la mia offerta sia di servizi abitativi pubblici che di servizi abitativi sociali, soprattutto lavorando anche sull'integrazione di queste due componenti e sulla costruzione di ambiti in cui c'è un maggiore mix delle utenze. Non mi soffermo sul fatto che parte di questa strategia riguarda anche il riuso di patrimonio immobiliare non presidenziale, scuole, uffici in disuso che vengono riconvertiti ad uso abitativo in modo tale da incrementare questa capacità di offerta e questa capacità di mix. Il progetto che è stato presentato a Varese nel centro antico di Biumo in particolare lavorava su un patrimonio ERP da riqualificare nel sistema delle corti seicentesche di Biumo inferiore con degli immobili anche totalmente dismessi da recuperare totalmente e altri invece da riqualificare approfittando anche dell'occasione data dalla ricollocazione di alcuni uffici di proprietà pubblica e quindi dalla liberazione di consistenti superfici in un immobile nella stessa area. Il modello che si è provato a costruire prevedeva la conferma a servizi abitativi pubblici delle corti e l'introduzione invece di un'offerta nuova rivolta invece agli studenti perché Varese è una città universitaria in deficit di capacità di offerta per la popolazione studentesca il modello era quello di uno studentato diffuso con l'idea che il ricavo dai canoni di locazione dello studentato potesse consentire di ripagare i costi della riqualificazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici. L'insieme di questi interventi definiscono e si collocano nel quadro di un intervento di rigenerazione urbana che guarda alle evoluzioni del contesto in particolare cogliendo il potenziale di biumo nell'ambito di alcuni processi urbani che hanno ad esempio a che fare con la riqualificazione dell'area delle stazioni che è molto prossima e che era stata appunto oggetto di un altro intervento a finanziamento pubblico nell'ambito del piano periferie. Provo ad accelerare perché non abbiamo molto tempo io ho ancora due casi rapidamente da introdurre, forse soltanto uno, è un progetto questo che ci vede invece consulenti della città di Castellanza ancora in provincia di Varese, anche in questo caso la cornice del lavoro è quello di un incarico più complesso che ha a che fare con le strategie di attuazione del piano di governo del territorio per quello che riguarda la rigenerazione urbana e lo sviluppo di una nuova offerta di abitare sociale. Questo incarico è partito anche in questo caso da una ricognizione del patrimonio, in particolare del patrimonio destinato a servizi abitativi, un patrimonio che nel caso specifico della città di Castellanza è ingente, con un indice di capacità di offerta per numero di abitanti molto più alto di quello degli altri comuni dell'ambito e molto più alto di quello dei comuni con termini busto che sono comuni anche più popolosi e con maggiore domanda ma che paradossalmente hanno invece una dotazione di patrimonio ERP più bassa. Il patrimonio ERP di Castellanza è un patrimonio tendenzialmente bene usato, c'è una parte di patrimonio inutilizzato che però è quasi tutto in naturali processi di aggiornamento, di manutenzione, salvo che per un comparto che invece è un comparto totalmente dismesso, il comparto di San Giulio, è stato identificato come un possibile ambito strategico di intervento per la promozione di un intervento pilota che consentisse da un lato di sviluppare le strategie di rigenerazione urbana attraverso il riuso del patrimonio dismesso del PGT, dall'altro di costruire un modello nuovo di offerta abitativa che si qualificasse come abitare sociale. Per la definizione di questo modello, a partire anche da uno stimolo che è arrivato dal mercato o da un operatore privato che ha avanzato una proposta, si è pensato proprio al segmento di offerta che guarda all'utenza senior. Considerato il fatto che la città di Castellanza è un territorio ricco dal punto di vista della capacità di offerta di servizi anche per l'utenza senior, ma sia nella città di Castellanza che più in generale nella provincia di Varese, se c'è un'offerta di soluzioni residenziali per la popolazione anziana, che ovviamente anche a Varese è una popolazione in aumento, ampia, diversificata, ma tutta nell'ambito sociosanitario vede invece una totale assenza di servizi rivolti alla fascia senior che si qualifichino come servizi abitativi. C'è un solo co-housing sviluppato a Legnano nelle formule di una senior house, cioè di un abitare rivolto a un'utenza senior autosufficiente che richiede esclusivamente formule di abitare che siano a basso costo, con offerti integrati e con forme di coabitazione a contrasto dei fenomeni di solitudine legati all'invecchiamento. Pertanto nel caso dell'immobile di San Giulio, a partire da una serie di considerazioni che riguardavano la fragilità dell'offerta rivolta alla fascia grigia, la mancanza totale di un'offerta specifica di servizi abitativi rivolti agli anziani, a fronte invece di un invecchiamento progressivo e notevole del territorio, a fronte anche dell'esigenza dell'amministrazione di mettere in campo l'azione di recupero del bene, rivitalizzando l'area nel quale si colloca, si è provato ad applicare quel modello che abbiamo descritto, che è quello consolidatosi grazie all'esperienza FIA, cioè un modello di servizio di interesse generale che prevedesse le componenti della condivisione, dell'integrazione con i servizi e della presenza di un modello di gestione immobiliare sociale e si è provato a declinare questo modello in un progetto. Un progetto che prova soprattutto a lavorare sinergicamente con i servizi al territorio che sono già esistenti, limitatamente al focus specifico sull'utenza senior e che integra questi servizi evitando sovrapposizioni e invece introducendo elementi di maggiore ricchezza e complessità di questa offerta e che lavora invece alla scala territoriale del quartiere provando anche a ragionare sull'uso condiviso degli spazi in modo tale da equilibrare la necessità di spazi destinati alla comunità e spazi invece offerti più in generale al quartiere in modo tale da creare anche dei contesti di osmosi e di accessibilità del quartiere e della comunità urbana ai servizi specifici offerti nella struttura. L'attuazione di questo modello si basa su un'ipotesi di parternariato pubblico privato del quale abbiamo studiato le condizioni di fattibilità provando a dire che nel momento in cui questo tipo di domanda è espressa da un target di utenza che è potenzialmente solvente ma che tuttavia esprime un bisogno a cui il pubblico si dà mandato di dare risposta riesce anche a configurare condizioni nelle quali il pubblico e il privato possono lavorare assieme, il pubblico con l'intento di offrire servizi al territorio e di rispondere ai bisogni della propria comunità, in questo caso la comunità dei soggetti anziani e il privato invece riesce a trovare condizioni di sostenibilità al proprio progetto applicando semplicemente il principio che è quello riconosciuto da Regione Lombardia e dalle norme che è quello di un tetto all'utile e ragionevole. Il privato che stabilisca un convenzionamento con il comune di Castellanza in questo caso ha diritto a vedere remunerato il proprio investimento a condizione che questo investimento non superi una soglia al di là della quale il privato è tenuto invece a conferire un canone di locazione al comune in quanto proprietario del bene. Io interrompo qui la condivisione, no scusate forse volevo prima di tutto però riassumere questa parte richiamando una serie di questioni che sono state trattate. Quali sono gli elementi di innovazione che abbiamo provato a descrivere attraverso questi progetti che sono per noi evidentemente terreno per esplorare e sperimentare? Da un lato ne elenco quattro. Uno, modelli di gestione immobiliare sociale e loro sostenibilità. Due, parternariato e ruolo nuovo richiesto alle pubbliche amministrazioni nell'attivazione degli stakeholder non solo pensando all'attivazione di un capitale economico privato ma pensando all'attivazione di soggetti capaci di portare anche competenze e know-how. Tre, ricognizione e approcci innovativi al tema del riuso e della valorizzazione del patrimonio pubblico che diventa la leva fondamentale da agire nelle trattative con il privato. Quattro, progetto dei servizi in una prospettiva che non è solo di rinnovamento del welfare ma di innovazione della società. Interrompo qui la condivisione per dare spazio al dibattito in quest'ultima mezz'ora. Non so se Marcello vuole intervenire lei come al solito per aprire questo secondo momento di confronto. Io chiederei ai colleghi e a tutti quelli che sono collegati di insomma contribuire anche loro alla discussione. Io quello che insomma è la mia sensazione un po' lo stavo condividendo adesso anche con già Antonio Farinotti è quella che ho già detto prima per cui è molto utile quello che stiamo ascoltando e contribuisce a iniziare a darci alcuni elementi per diventare competenti su questo tema. Tutta la parte diciamo di infrastruttura sociale invece è quella che insomma noi maneggiamo più facilmente e per cui non sono temi e ragionamenti avulsi dalle considerazioni che anche nei piani di zona degli ultimi tre anni in alcuni meandri in alcune dichiarazioni in alcuni anche piccoli progetti di intervento abbiamo portato avanti. Da lì appunto a farne un piano un elemento un documento organico di programmazione territoriale appunto c'è tutto c'è tutto un mondo c'è tutta una storia da scrivere che però sicuramente anche un fronte nuovo e stimolante per cui è una sfida che a me piace e mi interessa molto però vorrei sentire poi anche eventuali commenti eventuali intanto che qualcuno pensa al commento da fare mi veniva da ne faccio uno io mi sembra interessante che ritorni già stasera questa idea o meglio questa ambivalenza del concetto di infrastruttura sociale che dimostra la necessità di come dire un po' ibridare le competenze i tradizionali campi di intervento di ciascuno cioè vi basti sapere che il concetto di infrastruttura sociale è prevalentemente utilizzato in questo momento in ambito immobiliare per quanto riguarda la gestione di quegli asset che hanno ospitando delle funzioni di interesse pubblico garantita un ritorno se non altro di domanda quindi per c'è un possibile una possibile sinergia fra pubblico e privato perché il privato dice se mi fai investire in infrastruttura sociale io ho in qualche misura la domanda garantita noi ci animiamo ripetutamente nel come dire nel sottolineare che esiste un'altra visione di infrastruttura sociale che credo sia quella che condividiamo con marcello brambilla che poc'anzi ha richiamato che invece allude al tessuto di relazioni e connessioni di natura sociale che sono l'anima che fa funzionare i servizi no allora quando diciamo che si sta aprendo io credo anche a partire dal pnrr un campo di innovazione molto interessante che tiene dentro hardware e software diciamo che parliamo di infrastrutture sociali parlando di qualcosa che deve necessariamente riguardare tanto la componente hardware la componente di asset e quindi l'idea di infrastruttura sociale come spazio immobile destinato in questo senso infrastruttura destinata ad ospitare delle funzioni sociali quanto la visione dell'infrastruttura sociale che è quella più semplicemente riconoscibile al tema della rete sociale della rete di comunità queste due cose sono necessariamente da tenere assieme e sono inscindibili cioè la visione che il pnrr prova a lanciare deve avere almeno due gambe su cui andare avanti e non è scontato che queste due gambe dialoghino perché così come voi fate fatica a a seguire o a comprendere alcune alcuni linguaggi che abbiamo utilizzato oggi dall'altra parte il linguaggio del sociale spesso è difficile da essere compreso da parte di chi lavora nel campo dello sviluppo immobiliare quindi io credo che sia proprio questa la frontiera su cui lavorare non è un problema di chi a chi in capo a chi ricade la competenza o chi deve imparare da chi il problema è costruire un nuovo campo d'azione che finché superi quella scola compartimentazione quella settorializzazione a cui siamo abituati per cui c'è chi si occupa dell'immobile chi si occupa del contenuto chi si occupa del sociale chi si occupa del business ma in realtà appunto tornando ancora al punto di partenza l'obiettivo è garantire l'impatto sociale l'obiettivo è garantire il risultato in termini di soddisfazione del bisogno vanno mobilitate le risorse le competenze e le energie in modo integrato possono garantire questo risultato il piano la programmazione è il luogo dove cercare questa sinergia per cui è chiaro che il piano triennale non è un piano settoriale è un piano che deve coinvolgere il territorio deve coinvolgere i diversi interlocutori è chiaro anche che ciascun territorio ha le sue risorse qui giro la domanda a voi cioè il sistema delle risorse degli ingredienti che abbiamo un po' prefigurato dagli immobili sottoutilizzati da quelli già a destinazione residenziale a quelli che la potrebbero avere dal sistema dei gestori sociali attuali o che potrebbero assumere questo ruolo cioè qual è la ricchezza il potenziale del vostro territorio che vi sembra che il piano il programma dovrebbe cominciare a valorizzare perché è da lì che si comincia da lì che si parte del riconoscimento di identità specifiche di alcuni territori rispetto alla domanda sociale e dalla valorizzazione del potenziale che andiamo a identificare e mappare all'interno di quella fase istruttoria di cui dicevamo prima mi piacerebbe capire se nei territori di competenza di delle persone che sono ancora collegate rinvenite un potenziale per lavorare nella prospettiva che abbiamo qui descritto che non vuol dire avere già gli investitori non vuol dire avere già le idee chiare rispetto al modello di funzionamento di questi interventi però vuol dire avere le idee o qualche idea sul punto d'attacco di questo ragionamento che sia che sia il sistema degli immobili a disposizione che siano le competenze o alcune competenze già sperimentate in progettualità e iniziative di natura sociale in forme di accompagnamento che sono messe in campo in questi anni cioè qual è il punto di forza da cui riterreste utile prendere le mosse nel ragionamento sulla programmazione sono sempre grazie a campese di bucinasco posso dire due cose perfetto ecco allora l'unico potenziale che io credo che abbia la mia la mia città e sia se ho capito bene perdonatemi se a volte magari non riesco a capire bene sia l'invenduto però su questo vi pongo una domanda allora mettiamo il caso che abbucinasco come credo e quindi verificherò subito domani ci sia parecchio invenduto da parte chiaramente non beni pubblici parlo di invenduto di immobiliaristi chiaramente di costruttori quando abbiamo provato però la domanda questa è questa ma un immobiliarista secondo voi affitterebbe volentieri a un a una famiglia a un cittadino che ha un reddito basso che ha sicuramente paura come già successo altre volte che non riuscirà a pagare l'affitto benché possa esserci un accordo tra l'ente pubblico e il privato il privato ci abbiamo provato qualche volta voluto che l'ente pubblico si faccia garante cosa che mi sembra di aver capito e di aver chiesto ai miei pio che non sia possibile e quindi io chiedo se ho capito giusto se l'invenduto è quello e abbucinasco ne abbiamo tanto come è possibile riuscire a coinvolgere il proprietario come 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 può il lente pubblico come può farsi garante o aiutare perché il cittadino non ce la fa paga chi deve andare in quegli appartamenti e perché ovviamente non riesce a pagare un canone libero assolutamente noi a bucinasco abbiamo fatto il canone concordato con un abbassamento dell'un dell'imu esagerato cioè l'abbiamo abbassato del 75 per cento e devo dire che hanno risposto bene perché abbiamo fatto più di 25 contratti a canone moderato a canone concordato scusate però se siamo sempre lì ci sono circa 80 famiglie che forse non sono neanche poco su una cittadinanza di 27 mila abitanti perché bucinasco non è un paese povero 80 famiglie però che sono sempre la canna del gas per pagare l'affitto per pagare il mutuo anche noi abbiamo dato 50 mila euro abbiamo messo a disposizione in 50 mila euro abbiamo messo 80 mila per pagare l'affitto quest'anno e quindi ci sono questi aiuti ma non bastano quindi è quello ho capito che l'invenduto è quello dei privati grazie e scusatemi quanto sono prolista lo so avete ragione grazie ma adesso io poi peraltro non voglio rubare spazio ai temi soprattutto in particolar modo al collega penati che interverrà nei prossimi due incontri perché questi sono proprio materia sua quindi mi limito a dire che certo l'invenduto è uno delle possibili punti d'attacco ripeto so che a regione lombardia è particolarmente caro il tema ma proprio perché è spinoso perché non è così scontato come possa essere gestito però forse con una con una strategia oculata che combina risorse e fondi a disposizione proprio per per avviare o creare modelli virtuosi da questo punto di vista da parte degli enti pubblici eh dall'altra parte attivando dispositivi come le agenzie sociali che specie per l'abitare che specificamente si occupano di generare questo tipo di credibilità dei percorsi di inserimento abitativo dentro questi appartamenti valorizzando gli incentivi regionali che sono sia lato domanda che offerta cioè montando nella misura in cui il tema dell'invenduto dovesse essere riconosciuto in nel vostro territorio essendo particolarmente presente come la leva su cui eh provare a scommettere io credo che siano diversi gli strumenti punti gli strumenti disponibili e le strategie d'attacco eh evidentemente è un tema spinoso eh perché altrimenti avremmo già tantissimi casi eh ed esempi di soluzioni attivate in questo senso però io credo che eh fin tanto che non viene riconosciuto come il tema cruciale su cui scommettere e non vengono ricercate le soluzioni e le misure ad hoc eh non si troverà mai rimarrà sempre un tema spinoso eh quindi non è il tema dell'invenduto l'unica questione è sicuramente una delle questioni certo grazie mille grazie grazie dalla seconda batteria degli interventi a me viene in mente questa queste due variabili la prima è che se stiamo sui target potremmo a livello bergamasco ripartire credo non so io ho in mente due nuclei anziani soli e eh diciamo tra virgolette eh marginalità eh come dire eh quasi grave cioè ci sono delle esperienze credo a Bergamo città o in altri territori interessanti su questi due fronti forse un po' di meno ma forse qualcosa c'è anche sui giovani eh e e quindi potrebbe essere che si riparte dal dal come dire valorizzare quello che alcuni territori hanno già fatto e e si prova a metterlo magari a sistema la seconda suggestione che mi viene in realtà è la composizione degli interessi cioè eh il business non è il male è solo lo dico un po' diciamo chi si occupa di sociale ovviamente quindi eh credo che i sindaci lo facciano abitualmente noi tecnici un po' meno dovremo riuscire a cominciare a comporre anche una una come dire eh una sintesi tra le specificità dei nostri target e anche l'interesse legittimo io dico legittimo di chi fa degli investimenti eh money queste due cose io me le porto a casa dalla seconda vostro giro di di interventi io mi introduco soltanto per ringraziare tutti degli interventi noi abbiamo preso nota come al solito è sempre molto per noi importante questo tipo di feedback perché ci aiuta sempre a riguardare le cose delle quali ci occupiamo da punti di vista complementari quindi grazie a tutti per essere intervenuti forse dobbiamo lasciare qualche minuto ai saluti sì no volevo chiedere una cosa se potevi ehm velocemente accennare alla struttura dei successivi due interventi di modo che anche i colleghi sappiano eh nelle prossime due serate poi sì magari la parola al sindaco Imeri per la per la chiusura volentieri intanto ne approfitto per salutare il collega Lorenzo Benatti che è collegato e che presento eh Lorenzo e io saremo in aula giovedì prossimo e tra due giovedì quindi eh nei prossimi appuntamenti che sono quelli di approfondimento eh i temi che tratteremo sono la prossima settimana il titolo è complesso dalle procedure agli scenari di innovazione inquadramento delle norme e dei trend di riferimento del welfare abitativo ci soffermeremo in particolare sui possibili approcci alla stesura dei piani triennali eh nell'incontro del ventitré invece approcci operativi innovativi strumenti a disposizione opportunità d'azione strategie di valorizzazione del patrimonio e partnership pubblico privato proveremo ad entrare un po' di più nel dettaglio delle cose che abbiamo introdotto già questa sera illustrando alcuni meccanismi e spiegando meglio quali sono appunto eh le modalità attraverso le quali eh mettere a sistema queste queste componenti di valorizzazione patrimoniale ehm di costruzione di progetti di servizio e di costruzione di sinergie tra il pubblico e il privato grazie mille nulla un piacere se a partire da questa sera ci dovessero essere delle specifiche sollecitazioni riguardo a temi che riterreste opportuno di approfondire noi saremmo anche contenti di eh come dire poterle ricevere e di avere il tempo di di elaborare delle risposte o come dire di indirizzare poi l'esposizione a questo fine eh ricordo possibile usare la mail del del corso per cui da quella da cui avete ricevuto anche il link per per collegarsi alla alla serata di di oggi e dalla quale riceverete anche eh comunque le slide che abbiamo eh che sono state presentate ehm le manderemo questi giorni di modo che possano essere mantenute che come promemoria e come per qualcuno se le vuole se se le vuole riguardare eh come come spunto appunto per per eventuali richieste eventuali interventi sono sempre loiosa grazie campese volevo chiedere a questo tavolo io come vi ho già detto sono stata mi sono collegata in ritardo sono stati anche invitati ehm dipendenti pubblici nel senso dei comuni o degli enti o siamo solo chi chi siamo noi ecco mi perdonatemi nel senso che siccome da dove vengo esatto bravo siccome veramente è stato molto interessante e io credo che tutto questo tutto questo corso diciamo sarebbe stato utile magari ci sono anche che avesse partecipato anche la mia pioa delle politiche abitative che non c'è ma è una persona fantastica quindi sono stati invitati loro ma poi basta adesso mi zittisco grazie di tutto beh ehm allora il corso è organizzato dal consiglio di rappresentanza dei sindaci della provincia di Bergamo e per cui la diffusione di questa cosa poi ha avuto anche eh come notiamo ehm ricadute anche all'esterno del territorio provinciale anche con piacere devo dire perché eh ha suscitato comunque l'interesse l'attività di invito diretto e di coinvolgimento degli operatori e degli amministratori e degli dei colleghi del terzo settore è stata fatta a livello territoriale per cui sicuramente in questo gruppo di di persone che hanno assistito alla serata di oggi ci sono amministratori ci sono tecnici dei servizi sociali ci sono tanti colleghi della della cooperazione sociale. Ok. Sindaco Imeri? Sì? A lei la chiusura? C'è ancora qualcuno forse? Sì scusate ma invece sempre a proposito di chi parte sì sono anche i maggioressori urbanistici coinvolghi in questa formazione. Abbiamo sentito molto male e non abbiamo capito. Chiedeva se ci fossero i funzionari degli uffici urbanistici. Io e Nicla ne abbiamo parlato quando abbiamo ci siamo sentiti per questo, per organizzare la serata, sarebbe stato bello, non lo so, bisogna verificare è fondamentale anche secondo me che questo ragionamento si allarghi per cui magari anche per le prossime serate l'invito è quello di provare a rilanciare con i colleghi degli uffici patrimoni, di chi si occupa di PGT, di chi si occupa di tutte queste altre tematiche all'interno dei comuni. Grazie Bene, se non ci sono altri interventi io chiudo portando anche la mia esperienza noi comuni di Treviglio ha 31.000 abitanti, abbiamo circa 1.000 alloggi, trailer e comune, abbiamo investito quasi 5 milioni di euro in questi anni nella riqualificazione degli alloggi ma molte delle tematiche che sono emerse sia quelle della programmazione condivisa anche con altri comuni perché i numeri sono clamorosamente sballati rispetto alle proporzioni e prima credo Farinotti raccontava bene insomma la realtà della provincia di Bergamo è un po' diversa forse da Taranto o da altre zone d'Italia dove magari è più facile concentrare determinati servizi o risposti in alcune zone e poi lasciare magari un po' i territori qui anche per la conformazione geografica oltre che per i numeri comuni c'è un'esigenza di programmazione su ampia scala che probabilmente anzi quasi sicuramente è sempre un po' mancata si diceva prima mi passo di cogliere un passaggio in cui si diceva a prescina le risorse economiche le risorse economiche sono fondamentali sono fondamentali incentivi sono fondamentali contributi sono fondamentali bandi perché questo soprattutto sulla necessità magari di fare rete o unire le risorse o programmare a medio periodo è da sempre una leva importante la buona volontà tante volte c'è ma le fatiche della quotidianità dei comuni sono abbastanza evidenti agli occhi di tutti c'è un tema adesso Marcello diceva gli uffici patrimoni gli uffici housing gli uffici sociali ecco questo è uno dei problemi che ad esempio noi rileviamo quotidianamente cioè noi interessiamo quattro settori per la gestione degli uffici anzi abbiamo l'amministratore unico condominiale abbiamo l'ufficio lavori pubblici per le manutenzioni abbiamo il patrimonio che si occupa degli aspetti più gestionali abbiamo poi l'assegnazione quindi è un mondo particolarmente intenso e significativo che noi abbiamo cercato di gestire nel migliore dei modi con buoni risultati ma che necessita sicuramente un salto di qualità dal punto di vista della programmazione non solo per quanto riguarda il canone convenzionato da noi ad esempio non ha più tirato quindi o sono di iniziativa pubblica o stiamo facendo davvero fatica e quindi aler comune si assumono l'onere e l'onore di ristrutturare realizzare fare o è molto difficile il coinvolgimento di privati o ci sono progetti particolarmente innovativi quindi quello che una volta era coausi ma mi pare che sia stato poco usato oggi quindi si va verso una visione che supera anche questa dinamica noi ad esempio abbiamo una sfida da cogliere che è quella di con una nuova fondazione a seguito di un lascito di realizzare strutture alloggi eccetera e dovremmo capire quale sarà il modo di dare attuazione a questo progetto quindi sicuramente sono arrivati tanti spunti sicuramente però le riflessioni si devono poi allargare e stendere sia a livello di programmazione condivisa sia poi di effettiva attuazione all'interno dei comuni senza dimenticare che non basta avere la disponibilità degli spazi ma bisogna poi gestirli e sono partite molto molto onerose non solo dal punto di vista economico perché è evidente che insomma i canoni non coprono mai ma neanche lontanamente una rendita minima per garantire la manutenzione ma anche dal punto di vista proprio della gestione delle persone dei casi personali delle dinamiche di condominio quindi una struttura noi ad esempio abbiamo fatto questa scelta di un amministratore esterno tramite un bando che ci ha sicuramente aiutato ma è molto molto faticoso oltre ad essere una spesa in più che viene ripartita su inquilini ma con tutte le fatiche poi che ci sono gli strumenti messi in atto negli ultimi anni da regione hanno sicuramente aiutato però ecco si riducono forse a pochi comuni che hanno le caratteristiche per accedere a risorse e bandi significativi se no ci sono piccoli contributi o piccole entità economiche io ritorno all'inizio secondo me il tema anche per sviluppare per sostenere una progettazione qualcuno parlava di PGT qui forse qualcosa che va oltre perché il PGT si può disciplinare alcune aree ma io credo che anche in aree già esistenti o istrutture già esistenti si possa proprio cambiare il modello di gestione e di valutazione di questi aspetti quindi forse varrebbe la pena ragionare non dico forse anche da ambito non solo per il bando e per il bando come viene fatto oggi ma anche per la programmazione anche perché se dovessimo pensare se io guardo il nostro territorio ci sono comuni che hanno zero unità d'offerta e ce ne sono altri che hanno un numero spropositato e questo poi vuol dire per essere brutali visto che come diceva ci sono i tecnici funzionari politici vuol dire anche che c'è una migrazione di residenze nei comuni che offrono magari maggiore disponibilità e questo a sua volta genera maggior bisogno di servizi e tante altre cose che indubbiamente hanno anche un aspetto economico che non può non essere considerato perché tutti i progetti e tutte le programmazioni stanno bene insieme se danno davvero poi una risposta e quindi un investimento anche economico anche sui bisogni servizi eccetera può avere senso se però viene condiviso e non gestito da singolo comune anche perché credo senza offendere nessuno che il 70-80% dei comuni bergamaschi parlano di casa nostra non si metterebbe mai neanche a iniziare un percorso di progettazione non solo edilizia ma anche di progetto proprio di vita o altro perché non avrebbe le risorse né umane né economiche dovrebbe affidarsi a terzi probabilmente società o realtà come la vostra o tante altre però non ci servono le risorse per farlo quindi insomma è un tema interessante vediamo poi anche con gli altri due approfondimenti e poi a chiusura di capire se questo come è un po' lo spunto prima si diceva non è chiaro quale sia l'indirizzo però è evidente che il PNRR i pianizzoni e tutto non possa non tenere conto anche di questa esigenza che ormai è entrata nei temi di attualità non è più come una volta abbiamo la casa comunale mettiamola qualcuno e poi quello che succede succede e quindi sicuramente molto molto interessante vedremo poi se riusciremo a svilupparlo noi non abbiamo a Taranto ho scoperto che ha più sedi universitari di tutti noi quindi è un po' diversa la realtà però ci proveremo abbiamo due abbiamo delle realtà con nuclei importanti di indirizia residenziale non solo quindi potrebbe essere magari sviluppare dei piccoli modelli o fare almeno un'analisi potrebbe essere interessante anche partire da quello grazie e complimenti bene grazie a tutti e alla prossima puntata grazie a voi a presto buona sera grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti